me è una roba cioè io la vedo tipo egoisticamente interessante nel senso è interessante in generale anche in generale assolutamente per me pure egoisticamente nel senso che pure a me piacerebbe provare a vederla sperimentarla una situazione del genere ovviamente nella mia situazione con meno pubblico metti di falconero no per me è più difficile rinunciare alla l'ottima possibilità di fare anteprime recensioni sui codici che ti mandano le software al certo arrivi nel momento in cui la chiacchiera e l'interesse forte ci sta ma in realtà è un bel rischio anche per lui è per me per quello talmente lui sta rispettata io ho espresso voglia certo che un rischio quello che genera il video secondo me in cui manca una parte che mi sarebbe piaciuta ci fosse poi lui non se non l'ha voluto fare non se l'è sentita però c'è un vuoto che secondo me invece lascerà aperto per i cretini perché in realtà poi poi non devi per forza vederla in quel modo però secondo me lascerà aperta una lettura che non mi piace che è quella che combatto da anni sulla stampa magna se fa pagare la recensione cioè ed è guarda che non è una roba che credono in poi aspetta lui non si è neanche ringraziamo Ivo Shandor 84 che ha rinnovato grazie cari 12 mesi grazie è come se avessi platinato Vito per chi ha fatto il platino o nel video di guarda la show grande Ivo Shandor e ringraziamo anche Lord Krul 79 che invece col suo abbonamento di livello 1 arriva a 26 mesi grande Lord Krul grazie un abbraccio digitale e cioè tu scusami sta interessante questo mi stavi rispondendo dicendo non è dirò quello che stavi dicendo tu stavi dicendo falconero non ha detto questo lo so ah sì sì lui non ha esatto perché tu dici manca la parte quella là ma lui non ha non si è esposto cioè non è che lui dice a me non piace il settore per come funziona per più che altro parla anche il settore il il meccanico secondo me a lui non piacciono ed è quello che anche io guardo ogni tanto le dinamiche di sta roba no cioè tipo l'industria fornisce conoscendo un po' le dinamiche qualora ne ho pensato quello per me lui si è rotto il cazzo dei dei one devo per forza arrivare con la recensione che mi ha mandato cinque giorni prima e poi vuole attenzione non è cioè non c'è mai sta cosa non c'è sta però sì sai magari con più numeri gli fanno più pressione oppure si sente lui magari scelta sua è ragione cioè potrebbe anche essere una roba sua sì però magari pure io quando manda del codice si aspettano che ne parli magari non il the one certo lo pensi tu lo beh è quella roba la quindi lui dice a scanso di equivoci cioè pure proprio per liberarmi pure io magari da questa pressione qua però lui non lo dice questo non specifica cos'è il settore che è brutto e secondo me la lettura che daranno in tanti è quella peggiore possibile tipo gli altri rubano io non voglio rubare cioè tipo questa cosa io mi sono stancato della pressione del publisher che vuole il voto dice lui perché la gente è convinta di questo quindi quella lettura arriverà sicuramente ci sarà qualcuno qua in chat che penserà a quello però lui lui un po' ha detto anche secondo me non è che non si possa fare bene sta cosa anche nel modo in cui si è sempre fatto l'ha detto un po' queste cose quindi ha chiarito questo lo dice però lui dice io eticamente non me la sento se parli di etica già ti scosti dal discorso non mi piacciono i tempi capisci c'è un po di ma tu che ne pensi in generale video cioè del nel senso in linea di massima secondo te perché questa è una domanda pure uno si può fare anche proprio cioè secondo te il funzionamento di fare commenti critica analisi di prodotti avendo il legame con le software house che li fanno si prodotti no e con questi termini no cioè tipo vi mandiamo questo vi mandiamo quest'altro eccetera io non ho problemi a livello teorici in generale cioè secondo me è una roba che si può fare il senso è l'industri capisce che ha bisogno della critica in generale cioè il concetto è l'industri capisce capisce l'industri ha bisogno della critica anche per crescere per la diffusione di questi contenuti dei suoi prodotti eccetera e dall'altro e quindi aiuta nel senso dice collabora con guardatevi voi che siete quelli che parlano di videogiochi venite provate il gioco in anteprima intervistate gli sviluppatori vi mandiamo il codice per fare la recensione prima ancora che il gioco esca in questo modo cioè questa è anche una parte una una roba che l'industri concede secondo me perché alla fine potrebbe pure dire vabbè tu vuoi fare la critica e va no potrebbe pure dire così puoi mandare la sigla così tanto siamo partiti a bomba partiamo giusto sigla carai bigente bentornate e bentornati in un nuovo vito iuva rascio caraibi vito allora allora sì giusto chiaramente questa roba della comunicazione fa parte oggi del settore esattamente come la rivista ti aiutava anche a vendere il problema secondo me non della chiave del gioco che è veramente l'ultima delle cazzate ma che ci sia questo rapporto un po al limite tra chi finanzia questi servizi che che faccio una live sponsorizzata ma è ti pago la pubblicità sul sito ed era ti pago 50 mila euro di pubblicità sulla rivista poi magari un minimo di attenzione in più la vuoi perché è chiaro che tutto fa parte del sistema secondo me nel cinema funziona un po meglio per esempio non 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 mi pare almeno da esterno ovviamente è un mondo che conosco meglio di quello dei videogiochi che si invitano alla stampa però se parli male del film dopo te tirano fuori e buttano fuori fa parte del film ne parli comunque è bene che la gente ci vada perché ne hai parlato probabilmente la critica ha avuto un impatto maggiore sulle vendite per un sacco di tempo e quindi questo rapporto non sarebbe sulla carta perfetto non è un mondo ideale secondo me sarebbe meglio se multiplayer campasse con la pubblicità multiplayer sempre come se c'è a casa pubblicità del sapone e poi faccio dice quello che gli pare però io seguo questo mondo adesso da quando ho 16 anni sono cominciano ad essere un po d'anni poca misera 28 anni che seguo leggo rivista guardo siti eccetera eccetera l'idea che mi sono fatto è che non è non si è arrivato a comprare chi scrive si è smussato qualche angolo questo lo sai anche tu abbiamo sentire avrai sentite anche tu delle storie anzi le avrei vissute anche in prima persona quell'attenzione non si è trasformata in gente comprata che fa diventare i 59 ci può essere magari un anteprima in cui metti un po più risalto e lati positivi e un po meno i negativi poi in fase di recensione ci giri un po intorno al lato negativo ma lo dici cioè le stroncature sono arrivate sia un po alzato forse il metro di giudizio lato videogiochi quindi lotta e mezzo vale in un mondo reale un po di meno è possibile però una volta che l'hai capito ma qual è l'impatto che ha sulla persona il giudizio poi dovrebbe essere il testo quello che scrive quello che dice quello secondo me nelle persone che parlano twitch secondo me ha reso ancora più reali questi questi giudizi e queste critiche mi sembrano arrivare pubblicità o non pubblicità ecco perché questo video di falconero un po secondo me annienta questo discorso perché invece c'è quello che quando il voto non gli piace è però l'hai pagato e quando il voto non gli piace però sei sonaro e questa cosa l'amplifica perché questa condizione c'è poi ti dirò nel mondo di oggi sono quelle classiche cose che è difficile combattere a meno proprio che non c'è appunto non cambi proprio completamente tutto ma ma la gente che vuole rompere i coglioni a prescindere si inventa un'altra cosa anzi va più sul diretto vabbè ma tu gli hai messo voto alto che sei un coglione cioè il voto non è non dovrebbe essere alto sei tu che sei un coglione non li combatti ma ma però secondo me non gli dai un aggancio sì ma appunto quando gli aggaggi sono infiniti in quelli possibili allora vaffanculo capito c'è nel senso che stava infatti non è neanche una critica però io gli dico per me non mi piace perché io so cosa porterà e porterà la persona che dirà però lo vedi falconero che vuole essere etico e si sgancia ma se però aspetta vito cioè sei sicuro cioè nel senso vediamo 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 un po cioè tipo sta stiamo per esempio in chat da noi intanto ringraziamo tiziano grandi grandi che ha rinnovato l'abbonamento comprami per un totale di 24 mesi doppio platino con gratulazioni grazie grazie un abbraccio digitale e vediamo un po che cosa ne pensano anche loro cioè pure di chi ha visto se qualcuno ha visto tipo il video di falconero lo riassumiamo qui per per chi invece non l'avesse fatto falconero magari andatevelo a guardare comunque perché chiaramente poi i riassunti non sono la stessa cosa poi soprattutto se poi ci mettiamo a discutere anche delle parole eccetera falconero io vi posso raccontare dal mio punto di vista falconero ha ha deciso di non avere più legami di tipo lavorativo con cioè di come dire più legami con l'industria del tipo non voglio proprio più i codici per fare anteprime recensioni anche in anticipo si comprerà lui giochi si continuerà a chiacchierare di videogiochi con più calma magari non arriverà all'embargo della scadenza delle recensioni con le recensioni come faceva spesso sul suo canale e quindi ha deciso di staccarsi un po da questo tipo di rapporto che la maggior parte delle persone che parlano di videogiochi hanno con l'industria e ha detto varie cose ha detto per esempio ha detto che un rischio e naturalmente ha detto che non l'avrebbe potuto fare assolutamente tempo fa perché comunque adesso ha una base di di pubblico che gli permette anche di poter pur essendo ancora rischioso gli permette di pensarla una cosa del genere no io gli ho scritto gli ho detto che sono molto curioso della della cosa sono molto contento anche perché spero che lui possa andare a rappresentare un precedente interessante perché è una delle robe che effettivamente secondo me non è stata tanto provata fino in fondo a me è venuto in mente l'esempio di Yotobi perché lo vedo spesso giocare cazzate che non sono parte dell'industria lo vedo frequentare videogiochi ma non lo conosco bene ma Yotobi è famoso è altro esatto cioè ha parlato di cinema è uno che fa i suoi show su vari argomenti cioè non è un... è molto diverso da Falconero o da me o da Player Inside per dire no da chiunque Round 2 da Adobax cioè da Vito Iuara pure capito perché comunque anche per te il videogioco è molto presente non ce l'hai spiegato cioè lì è in senso negativo però per esempio Round 2 no no è nel senso di che cosa si occupa di che cosa va è più diciamo persona che parla tra le tante cose di cui tratta anche di videogiochi ma non è che fa quello cioè è molto è molto diverso da Falconero da Adobax Player Inside Round 2 capito molto diverso io per esempio su Round 2 cioè parte anche su Falconero ma Round 2 per me invece quella parte da portale cioè di rapporto col pubblico secondo me al di inizio l'ho detto anche a loro per me se ne potrebbero proprio staccare loro cioè per me è una roba che quasi appesantisce l'idea del loro lavoro che invece è una roba che potrebbero poi ovviamente a livello economico non lo so io parlo proprio di rapporto col pubblico a livello economico numeri contatti questa è una roba che purtroppo devi conoscere bene come funziona e ovviamente non ne so zero e secondo me anche a sentir loro impatta cioè a livello di quello che voglio io dare a tutti quella roba non me ne frega un cazzo a me non me ne frega niente di sentire Round 2 che arriva al day one a parlarmi del gioco mi piace sentigliere parlare mi piacerebbe molto di più invece che uscissero da quel regime per parlarne dopo quando stanno giocando i loro giochi come fanno a volte durante la mattinata quindi secondo me a livello di percezione del pubblico ma a te addirittura tua è una roba proprio particolare proprio di gusto però secondo me che molti non è certo certo ovviamente anche a me piacerebbe tantissimo quella roba però secondo me con i numeri loro fai più fatica poi a monetizzare perché quella roba ti porta gente diversamente Falco Nero leggevo i messaggi sotto quel video e c'era gente che dava soldi cazzo che non ho scoperto che si possa fare non lo sapevo nemmeno che su youtube commenti dando soldi quindi magari sai secondo me anche Round 2 otterrebbe la stessa cosa secondo me però magari anche Falco Nero c'ha quelli che sono entusiasti e magari qualcuno perde perché perde nel senso che magari gente che neanche seguiva capito però il video in cui fa la recensione esce per tempo se lo guardano più persone che ci capitano anche banalmente solo questo quel video finisce nell'algoritmo quindi Falco Nero seguono in tanti che poi ti portano altre roba per me è un bel rischio anche per questo esatto ma infatti è un bel rischio anche per questo diciamo io sono quello è assolutamente una roba ci sono un paio di abbonamenti però voglio le magari sì DSCX Luca ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 21 mesi grande Luca grazie Caraibi un abbraccio digitale e un abbraccio digitale anche a Silkinano che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di due mesi grazie per la conferma Silkinano un abbraccio digitale anche a te Pazzerotto fa una domanda tecnica chi vi dà codici vi dà anche una scadenza per un'eventuale recensione no l'embargo si intende sempre da si intende che da prima della scadenza non puoi parlarne ma non si intende appena scaduto ne devi parlare per forza ma non se lo aspettano però se io ti do il codice è perché voglio che farli guarda mando PlayStation VR 2 che magari c'è un investimento certo secondo me si si aspettano che al lancio dove c'è il gruppo forte di acquisto delle persone ci sia qualcuno che glielo racconta e che quindi hanno rientro da quel punto di vista come no secondo me si assolutamente se lo aspettano ma non c'è mai io personalmente in questi anni e prima con i siti e le riviste non ho mai vabbè ma con le riviste era era diverso c'era la rivista che dava il tempo si esatto ci si metteva d'accordo quando ti posso dare sto coso per la recensione quando chiudete il prossimo numero qua ok allora ti posso dare questo gioco questo altro gioco perché così siamo sicuri che non ne parlate prima era sempre un prima rivista non c'è mai stato il dubbio che ti prendi una roba e ne parli è quello che fa cioè non c'è mai stato come dire ma secondo me anche con i content creator è normale no tu dici te l'aspetto allora ce l'hanno ce l'hanno è ovvio che vuoi uscire all'embargo succede poi un po' questo naturalmente però per dire sui siti ti posso dire di un sacco di casi in cui siccome c'erano troppe robe pochi giorni eccetera non solo su IGN Italia è vissuto in prima persona da me ma io l'ho visto fare anche ad altri siti a multiplayer a Ivriai in quel periodo esce si esce la recensione non abbiamo fatto in tempo cominciamo a parlare del gioco poi ci prendiamo una settimana dieci giorni per dare il voto e completare la recensione questo è successo un sacco di volte sta cosa cioè è successo anche ultimamente si si succede questa cosa qua succede magari ne parli un po' e poi fai la recensione cioè non è solo la recensione però l'idea di parlarne o magari ho giocato dieci ore ti parlo di dieci ore poi se ne parli il giorno dopo non credo che il publisher ti abbia chiamato se per tre mesi non hai parlato il publisher magari ti può fare la telefonata per dire oh ti ho mandato playstation vr 2 come cazzo è che non hai parlato per tre mesi di playstation vr 2 quello immagino che potrebbe anche succedere si 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 ehm si sulla questione video linkato da Giotta Vernelli si ragazzi adesso non è che possiamo siamo noi che ne stiamo parlando ne parliamo cioè no anche per me a me quella cosa di prendere i video e commentarli pezzo per pezzo è una roba che no ma poi figurati in cui c'è allora una cosa se noi volessimo farlo adesso col video di falconero sarebbe avrebbe un senso nel senso la notizia è falconero ha deciso di fare questa cosa allora noi pigliamo il video di falconero commentiamo commentare il video di un'altra persona che parla di cosa lo stiamo già facendo noi no stiamo già commentando noi siamo già in due commentiamo e cioè non è che in due di cui uno è il video di Uva ragazzi ma parte questa poi siamo insieme in chat tutti possiamo commentare non c'è Jay Shoddard dice non credo che nessuno abbia chiamato nessuno per parlare di PlayStation 2 era un esempio ovviamente Jay Shoddard era per far capire che insomma magari là te lo aspetti ma manco a dire a litigare cioè se poi l'influencer è grosso secondo me fai pure pippa cioè capisci che lui lo fa quando vuole perché è importante che lo faccia però sicuramente ci sarà che se lo ti invitano si aspettano che vai e quindi devi fare il viaggio ma guarda ma nel 99% dei casi ovviamente va così perché è una roba di convenienza reciproca o comunque da parte dell'invitato da parte di chi riceve la cosa c'è assolutamente la convenienza di stare sul pezzo per come funzionano le robe una domanda vera no scusa finisce no perché dicevo fermo restando che secondo me secondo me perciò sono contento anche della scelta di Falconero e gliel'ho detto questo fatto al di là della questione come cosa ne pensa lui cosa ne possiamo pensare in generale dell'industria dei legami con l'industria eccetera per me è proprio interessante la chiacchiera tranquilla sui videogiochi per me è proprio interessante quello è una roba che per esempio indirettamente noi facciamo quando ci vediamo qua e diciamo Vito che hai giocato e giochiamo giochi dell'anno scorso di tre mesi fa mai tipo cioè sì anche al day one però insomma è più è più rara come cosa no tipo nel Vito Viva Rashow in particolare la novità di oggi il problema della comunicazione tutta in quel giorno abbuffata su tutti i canali è una roba che io vivo con pesantezza esatto quindi a me non mi interessa poi seguirlo per nove ore al giorno di un gioco a me piace proprio anche questa parte questa parte qua no volevi fare una domanda però la domanda era sul fatto quando andate agli eventi sì quelle cazzo di foto tutte uguali sono obbligate o è una vostra possibilità no no per esempio ti faccio un esempio di quella di Final Fantasy 7 l'anteprima di Final Fantasy 7 Rebirth che mi viene in mente quando si dice sto fatto perché c'è tipo uno schieramento di persone della software house in quel caso di Square Enix e tutte foto uguali con il content creator che cambia in mezzo e certamente la gente che segue la chiacchiera di videogiochi si trova tutte oppure la foto con la spada sulle spalle tutti la foto con la spada sulle spalle tanto che mi è venuto del dubbio che no devi fare sei venuto devi fare questa foto no 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 non c'è assolutamente non c'è assolutamente quindi ci sono persone che vanno è divertentissima l'idea di questa cosa capito vieni qua ma tipo mi farei un film italiano comico con sta roba oh metti qua la spada ma io lo pensavo davvero non te lo negherò Ehm Yvon dice ma infatti è indispensabile una recensione al day one probabilmente no Yvon secondo me a livello di numeri di attenzione nettamente sì qualcuno mi chiedeva prima dei lego per esempio per i lego molto umilmente io volevo la roba per arrivare al day one alla recensione perché chiaramente ce l'hai un po' d'impatto la gente non conosce il set io poi mi sono proposto di pagarli cioè io sono andato all'ego shop a dire ragazzi te li pago a loro gli arrivano prima voi me li mandate io poi data d'embargo esco certo perché comunque è importante cioè arrivi prima e anche a livello secondo me di importanza no? c'è la differenza tra uno che ce l'ha avuto e uno che non ce l'ha avuto banalmente sì ti dà una sensazione di oh questo sito questo content creator sta dentro alla cosa ma lo seguo perché così mi parla delle robe certo la foto della spada banalmente serve anche a quello no? c'è sono stato lato lo faccio vedere sì sì no ma perciò è troppo affascinante cioè sono contento del fatto che quella parte a me piace benissimo mi spaventa quello che genererà un po' di vuoto e secondo me lui lo sa perché non è uno scemo e io è uno che rispetto se no non mi sarebbe permesso io penso che un un cretino non rispondo so che lui quella roba la intuisce sa dove va un po' a parare si poteva secondo me chiarendo meglio oh io mi sono rotto il cazzo di andare anteprime di uscire al the one di fare le corse per recensioni perché mi hanno mandato una settimana prima è una roba che mi sfianca e non avrei parlato di etica in questo caso perché sennò un po' c'è che chi rimane vabbè però perché magari lui è veramente il motivo è quello e lo spiegano cioè nel senso lui dice io non riesco a farlo perché non mi rode un po' dentro a livello proprio di etica mia personale quindi lo dice per questo cioè in modo sincero quindi solo l'idea del conflitto di interesse io non l'ho capito così chiaramente però ugualone potrebbe essere colpa mia la mia impressione è che invece su quel punto non ci fosse completare allora facciamo così questo magari glielo chiediamo quando capita di farci una chiacchiera con lui io ho anche scritto sotto al commento perché non volevo che arrivassero magari riportati che ne parliamo qua io ho scritto sotto esattamente i miei dubbi in merito sì 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 no no comunque lui già lo sa ce l'ho detto pure quando capita poi ci facciamo una chiacchiera pure su questa cosa magari magari succederà tipo anche già nelle prossime settimane eccetera magari in un video i war show così ci facciamo una bella chiacchiera approfondita sulla cosa e vabbè comunque questo è io ribadisco che sono stra curioso cioè sono pure in hype per sto fatto io muo voglio vedere le robe di falconero nuovo corso cioè sono troppo curioso di di sto fatto io resto convinto che poteva per esempio prendersi il codice non uscire al the one se era quello il problema è basta ed essere libero di parlare perché se l'ho fatto fino adesso e io gli riconosco che invece è uno che non se ne è sbattuto il cazzo del fatto che abbia avuto una chiave non l'avrei messo in discussione dopo forse lui vuole proprio dare una pulizia d'immagine no magari vuole anche proprio sa che cosa ti rispondo io su cosa penserei io cioè metti che ne so capcom esce monster hunter wilds l'anno prossimo e seleziona delle persone per dare i codici e io non voglio neanche quella roba di dire io me lo io però voglio giocare con calma eccetera grazie per il codice però magari loro cioè se è tutta una burocrazia pure dietro a ste cose con gli nda e le robe di chi sono le persone che fa cioè loro devono sapere anche ma perché perché se no ci sono i leak naturalmente è tutto un lavoro importante non glielo voglio far fare inutilmente però capito quindi a suo punto magari c'è anche questo cioè c'è anche ragazzi a posto vi ringrazio per l'idea ma meglio proprio di no cioè non è che tu ti puoi se no ti pigli il codice e poi esci quando ti pare a te è vero che non c'è è ovvio che perché non stiamo parlando di due o tre giorni dopo no stiamo parlando di se due o tre giorni dopo il problema non è per nessuno ed è uguale se il pubblico è contento perché se ne parla per tre giorni esatto se invece tu dici no questo me lo gioco con calma poi vediamo magari l'anno prossimo però loro magari evitavano di lo davano un altro cioè gestivano la cosa perché poi fanno IPR le rassegne stampa c'è un sacco di lavoro burocratico di un sacco di no no però l'impressione che ho avuto io è che sia quello il problema cioè che sia stanco un po' di quello magari è nediao devi leggere tutta una roba generale anche questo anche questo può essere sì certo a me sembrava più quello e non il discorso oppressioni dal publisher cioè per me è chiaramente ma infatti non è no no anche secondo me non è però secondo me si può leggere anche nell'altro modo però Vito ti posso dire una cosa io trametti io non l'ho proprio letta sta cosa qua tu l'hai letta secondo me io ci ho visto lo spazio più che l'ho letta in quel modo ci hai visto lo spazio ok però te ne stai preoccupando tu cioè metti che perciò dicevo sentiamo un po' perché a me non mi sembra che è venuto fuori tipo in chat non ho visto non ho letto tantissimo guarda banalmente la notizia di Falconero a me arriva mentre ero in live sabato col Vito Wiggly e come viene riportata secondo me è esattamente la lettura sbagliata Falconero ha detto basta che chiodici perché c'è il conflitto di interesse se poi ti vado a prendere il messaggio chi è che ha riportato sta cosa mi hanno riportato in chat sta notizia di Falconero e che è successo Falconero ha detto basta con il tuo prima hai fatto un riassunto con la tua visione la visione di chi me l'ha riportata era Falconero ha detto basta oh guarda c'è Falco in chat vedi dice anticipo ciò di cui discuteremo giusto per chiarezza ma è stato un problema di carico anzi adesso sarà pure peggio è una questione puramente etica rispetto a un settore di cui non condivido più alcune dinamiche ciao Falconero intanto sarebbe bello parlare per capire no ma infatti prima o poi ne parliamo proprio con lui direttamente così ci facciamo anzi Falco se vuoi anche adesso se vuoi parliamo anche di Tudor che ha fatto ho scoperto oggi che ha un canale a parte forse un terzo canale oggi l'hai scoperto solo di Lazio uno dei 50 canali di Falco Nero anzi della famiglia Falco Nero con 70 canali di cui si parla oggi avrò scritto il terzo mio messaggio su YouTube a Falco Nero cioè capisci non è proprio il mio allora ringraziamo Lord Dave The Kind che ha regalato un abbonamento di livello 1 a Falco Nero che bello quando si fanno gli onori di casa in questo modo grazie un abbraccio digitale allora Falco senti io ti mando il link tu no devi andare al dentista ah al dentista va bene ok ok allora se no ma se posso fare una steppata volante no vieni vieni ti mando il link mando il link su Telegram link e password per entrare allora ecco qua troppa Lazio in un'unica chat attenzione troppa è troppa Lazio veramente io posso uscire però ragazzi non c'è problema anche per dissociarmi dalla cosa allora facciamo andiamo in modalità Mauro Murri gliel'avevo regalata pure io la sub mi è arrivato il messaggio di in borsa e regalala a qualche altro pezzente Mauro Murri però scusami non stregarlo questo regalo grazie comunque per il pensiero Mauro Murri assolutamente anche per il pezzente anche per il pezzente allora dove sta mettiamo il testo ospite qui falco nero poi dopo lo aggiustiamo quando arriva oh vedi sei contento vito così ci possiamo fare bello perché si chiarisce meglio questo assolutamente assolutamente poi possiamo avrò l'occasione capcomics troppo severo che cosa chiamiamo anche capcomics come laziale come laziale ecco qua falco carai ti sentiamo già tra un attimo ti vediamo anche in video come va allora siamo al day one che era quando era il video ieri era il giorno zero l'altro ieri quando è sabato quindi quindi siamo già al secondo giorno del nuovo corso allora sistemiamo anche in video falco nero mi spero solo essere discretta perché oggi oggi devo andare a mettere una capsula per cui ecco la giornata tranquillo 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 da possessore da possessore di capsule ti sono anche vicino per la cosa allora eccoci qua transizione tac aggiustiamo no guarda abbastanza preciso tanto per i nostri mi sposto io aspetta no no va bene va bene va benissimo va benissimo la scritta sempre lo sapete ragazzi la sto aggiustando lo so che c'è gabbro che ora arriva e dice è storto ah perché è un po' forse troppo grande aspetta anche la mia fa schifo la tua va bene la tua è proprio sballata ma che hai combinato tu Vito che hai combinato allora vabbè mentre io sistemo le cose non perdiamo non sfruttiamo questo tempo pre capsula di falco per per parlare di questa roba qua allora il dubbio di Vito falco anzi scusami Vito vai digli tu proprio direttamente ma te ne mi ha esatto allora vai vai con la risposta vai 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 parla ruota libera falco vai fondamentalmente il discorso non è mediamente di carico anche perché ripeto adesso gioco forza sarà pure peggio perché io dovrò concentrare in meno tempo più lavoro quindi è ovvio che mi prenderò il mio tempo però non posso neanche arrivare dopo veramente quattro mesi dall'uscita di un gioco per cui bello male che si tratti di un approfondimento parziale comunque dovrò viaggiare a ritmi abbastanza alti che credo saranno uguali prima se non peggio quindi non è è semplicemente un discorso che ieri tanto facevo un amico che non capisce molto di queste cose e mi ha aiutato un po' a chiedermi anche il modo per parlarne è un discorso di io credo che in ogni settore sia importante avere una sfera che si occupa di marketing una sfera che si occupa di informazione trovo che in questo periodo storico le due entità si stiano avvicinando troppo e si siano unite troppo e quindi credo sia importante dimostrare al pubblico che ci sono anche delle alternative che non sono necessariamente il seguire tutti la stessa strada questo è un po' il concetto non amo il fatto che il marketing ora abbia un'incidenza nella componente editoriale spesso e volentieri abbiamo avuto tanti esempi in questi anni ed è quello fondamentalmente che mi ha spinto a dire ok non mi trovo più in questo settore ma tu Falco scusami scusami dimmi tu ti sei sentito cioè proprio qualche volta in situazioni del tipo minchia sta cosa fatta così però se la dovessi fare così mi sentirei un po' cioè che ne so che sto facendo più pubblicità che chiacchiera più pubblicità che critica non mi piace allora sai che c'è visto che comunque capisco tante altre cose che ci possono essere dietro mi faccio proprio una strada a parte e percorro quella io quell'aspetto no anche perché ti dico io da quando ho mollato le sponsor un anno e mezzo fa quel tipo di dinamica non l'ho più vissuta perché non c'era più la componente del magari questo potrebbe diventare un cliente poi no da un punto sì ho capito e ti posso dire io come poi tu potrai confermare pressioni io in questo settore non ne ho mai avvertita che se ne pensi fuori sì sì no perché molti chiedevano in chat ma quando mi manda se si aspetta ma neanche tipo il gioco che deve uscire al minuto esatto della scadenza dell'nda no ok però scusami se voglio capire il punto se non hai sentito pressione e quindi hai potuto lavorare esattamente seguendo la tua etica e come piace lavorare a te quello che stai decidendo di fare non è una roba per i modi del settore ma è per una chiarezza di immagine tua cioè quando vi dico una cosa nessuno può mettere in dubbio che lo faccio perché mi è arrivato un codice quello anche ma non è non è esclusivamente quello il punto cioè io ho percepito e percepisco e credo lo percepiscano tutti quelli che gravitano in questo settore una perdita di credibilità la gente non si fida più quello è un po' la gente è molto diffidente troppo si crea il chissà cosa c'è dietro a questo punto l'avrei dato perché questo perché quello è qualcosa che dieci anni fa non c'era dieci anni fa c'era le mazzette mi ricordo questa parola che ricorreva le mazzette prima che diventasse pure vent'anni fa pure vent'anni fa era un pochino più forse non c'era i social non lo so però io l'avvertivo però nei forum c'era sta roba c'è la gente pagata e c'era lo stesso conflitto di interessi che era la pubblicità però io posso dire non vivo il concedere una chiave d'accesso come un problema per me diventa un problema quando diventa un privilegio quella chiave d'accesso cioè se fossimo in un sistema in cui per esempio di fronte a requisiti di accesso chiari tutti quelli che rispettano quei requisiti avessero uguale accesso a tutto io non avrei fatto questa scelta per esempio perché sarebbe un discorso un po' più però siamo in un sistema in cui purtroppo il legame c'ha questa sfumatura di marketing e io non la voglio più avere che può essere quella falconero cerco proprio di inquadrare perdonami se faccio un po' no ma io sto qua apposta il fatto di magari non nella comunicazione di arrivare in un modo diverso a come si aspettano quindi magari criticare molto può metterti in una blacklist io il discorso blacklist l'ho vissuto un paio di volte grey list in un paio di occasioni nella mia carriera non me ne è mai importato granché di quello onestamente no però capisci che è una pressione che ti può far lavorare in un modo non edio quindi non è già non ci sono pressioni quella è allora un conto è diciamo che non ci sono pressioni ma ci possono essere a volte delle conseguenze vogliamo dirla così la prossima volta la pubblicità i soldi le vado a dare un altro il discorso è è normale che una persona che ti dà dei soldi sta investendo su di te una pubblicità cioè nei momenti in cui tu ricevi dei soldi è una pubblicità non è che ti danno dei soldi per fare quello che vuoi tipo filantropia non è che sono mecenati che ti vogliono finanziare per cui nel momento in cui c'è il legame economico è ovvio che poi il connessionamento volente cioè volente o volente ci sta anche inconscio magari anche inconscio però ci sta per quello ci sono soluzioni tipo c'è i tag giusti dire questa roba qua questa cosa è sponsorizzata ci sono casi guarda non voglio neanche citare anche se è in positivo perché se no magari dici questo l'ha fatto quello non l'ha fatto però ci sono casi anche recenti di creator che tipo siccome hanno fatto delle sponsorizzate su un determinato gioco non l'hanno recensito mentre normalmente loro i giochi li recensiscono però nel senso nel senso capita spessissimo che questa cosa non accada ah il contrario dici adesso ci sono tante occasioni anche a livello di stampa in cui le recensioni arrivano prima o dopo le sponsorizzate comunque il legame con quell'azienda che ti sponsorizza a livello periodico c'è anche se non si applica sullo stesso gioco c'è comunque il discorso è tanto tanto ramificato secondo me certo ma io sono anche d'accordo con te che sia un'anomalia e un problema che sarebbe bello superare però è anche bello far capire che falconero fino a oggi non ha preso i soldi per parlare bene o male di un gioco vabbè ma quello è quello è quella secondo me è la parte che secondo me nel momento in cui dici mi stacco può essere più fraintesa io l'ho scritto dagli imbecilli però io mi ricordo falco tu nel video l'hai detto questo fatto cioè che non è mai successo ok perciò dicevo vito magari tu c'hai avuto questo dubbio dici non è troppo chiaro però in realtà tu hai paura tu hai paura che le persone possano pensare vedi si stacca perché se invece stai dentro ti danno i soldi per parlare bene dei giochi tu hai paura che le persone pensano secondo me oggi quello che ci spiega va un po' in quella direzione cioè io preferisco evitare alla base un meccanismo che è distorto lo preferisco evitare di tutto anche se poi in qualche modo posso evitarlo perché comunque inconsciamente o cosciamente c'hai una sei condizionato e questo non vuol dire sai cos'è io ti posso dire nelle redazioni e Ualo questo può assolutamente confermare ai bei tempi c'era il reparto editoriale e il reparto marketing chi stava nel reparto editoriale di quello che accadeva nel marketing non sapeva nulla quello è il discorso adesso chi fa editoria fa pure marketing cioè colui che fa l'editor spesso è coinvolto nell'attività di marketing quella in molte realtà spesso è una persona per dire è proprio il sistema che si è modificato per fare e si è naturalmente evoluto in questa direzione però il discorso è quello che ho fatto io è al pari di non voglio fare però è tipo uno che fa lo sciopero della fame non è che fa lo sciopero della fame perché vuole cambiare qualcosa vuole fare lo sciopero della fame perché con quel gesto pone l'attenzione verso un problema e poi si spera in una presa di coscienza collettiva rispetto a certe situazioni a certe questioni ma non è che io con la mia cosa voglio mandare un messaggio di qualche tipo sotto intendere qualcosa è semplicemente ragazzi il settore perde di credibilità se non ne prendiamo coscienza il settore finisce non mangiamo più poi neanche a livello di pubblico che ti guarda le pubblicità prima di un video su youtube cioè quella è la mia paura che il settore si trasformi in solo marketing e che l'editoria o comunque la critica l'informazione la divulgazione sparisca quella è la mia paura che è una cosa utopistica probabilmente si trasformerà perché questo problema del perdere di credibilità falconero è anche quello che ha permesso la nascita dei siti prima perché le riviste avevano perso credibilità e di creator dopo perché la gente non si fidava più del sito di riferimento è pagato mentre l'influenza era libero poteva parlare metteva una webcam a cazzo di cane all'inizio e parlava allora era libero certo quindi questo è un problema vecchio ecco perché secondo me molto più che dire c'è questo problema che trovo veramente difficile che se ne possa uscire se il codice arriva dal publisher ma chi cazzo te lo dà prima devi trovare la gente disposta ad aspettare l'interesse del gioco a posteriori è molto più interessante far capire che questo lavoro si può far bene anche stando in un meccanismo così discutibile cioè sarebbe importante far capire al publisher che l'investimento che fai è sul mio tempo da dedicarti non comprandomi che oggi probabilmente ha più linee grigie come dici diciamo che ci vorrebbe prima di tutto una regolamentazione di certe dinamiche cosa che non c'è in questo momento cioè dovrebbero essere stabiliti dei confini delle regole cose che adesso non ci sono quello che hai detto prima è fantastico per esempio cioè dei paletti per cui quello che ha certi numeri prende la chiave rispetto a un altro mettiamo un tetto per chi deve arrivare all'evento vuol dire che non è hai parlato bene allora vieni hai parlato male allora non vieni ma devi venire quello e quello è e poi stabilire anche un confine chiaro tra chi fa marketing e chi fa altro perché nel senso che un mio lavoro possa essere messo in diretta correlazione con il lavoro di un altro che magari con un'azienda ci lavora una volta a settimana e io cioè non è normale che venga messo in correlazione non è normale che si possa pensare che la mia magari è una cosa ecco una cosa in cui mi sono spesso trovato è il eh ma tu hai rapporti con l'azienda no io non c'ho rapporti con l'azienda perché magari qualcun altro ce li ha a me quelle associazioni non non mi piacciono e quindi preferisco dire ok io non ho cioè prende una direzione talmente lontana da tutto quello che è il sistema che non si crea per me è abbastanza la tua decisione secondo me è inattaccabile cioè quella è chiarissima ed è di pulizia di immagine totale ti auguro anche che vada benissimo che poi ragazzi sia chiaro non è che vuol dire che Falco è bravo gli atti sono cattivi Falco ha fatto una scelta che è legittima come quella di chi non la prende la stessa scelta perché io ho tantissime persone che rispetto parlavo anche appunto di eccezioni che non hanno la possibilità di fare la mia stessa scelta di indipendenza e il riferimento era a Round2 per esempio che loro hanno un gruppo nutrito di persone collaboratori diverse famiglie che dipendono da quel progetto sono tanti nuclei io l'ho potevo fare perché sono io e la mia compagna siamo in due cioè se fa a campare con quello che io prendo da Youtube e da Twitch cioè se fa ma mi rendo conto che non tutti lo possono fare quindi anche per quello ci tengo a rimarcare il non è buoni e cattivi ma è semplicemente scelte diverse questo allora c'è uno stele scusate c'è uno stele importante da leggere perché dice sono notoriamente giallorosso step canevra ma stimo falconero non posso dire lo stesso di Vito Iuvara che mi è piaciuto molto ringraziamo anche Onizuka 1986 RM per i 31 mesi di Prime e Mauro Murray che è quello che voleva regalare l'abbonamento a falconero non ce l'ha fatto in tempo perché è stato battuto da Lord of the Kind ma l'ha regalato a Mad Sucker così va bene grande Mauro Murray grazie un abbraccione digitale a te a Onizuka grazie in quest'ultimo punto falconero è quello che secondo me crea proprio la roba un po' più in contrasto perché dire io rispetto quelli che lo fanno perché non possono farlo perché decido non farlo secondo me non non giustifica poi il fatto che lo facciano se in realtà ci sono delle zone grigie perché comunque hanno accettato delle zone grigie io penso che la vita sia fatta dei compromessi purtroppo gli assoluti non ci sono bisogna trovare il proprio punto di equilibrio nei compromessi a volte cercando di fare il massimo per fare quello che si sente internamente di fa io non credo che esistano delle possibilità che si applicano a tutte le situazioni e di conseguenza ti dico nel mio caso io posso permettermi perché produco talmente tanto che un pezzettino a pezzo prodotto mi danno da mangiare se io avessi dei ritmi più bassi forse non me la sarei voluta permettere avrei dovuto cambiare proprio lavoro chi lo sa però ti dico io sono abbastanza attivo lavorativamente parlando gente meno attiva non so se ce la farebbe quello cioè è una scelta che anche presuppone un una consapevolezza di tutto quello che comporta poi farà meno di aiuti doversi comprare tutto banalmente questa scelta a me mi porterà via 4-500 euro al mese di materiale e l'ho messo in conto ho fatto ho fatto insomma no la speranza è che il pubblico risponda talmente bene che veda quella come una zona sicura da tutto il resto e quindi ti vai a intercettare un altro pubblico che magari te li riporta da un'altra parte sì anche se ti posso dire già ai tempi di quando abbandonare le sponsor c'erano persone che mi attaccavano dicendo ah questo è il preludio al padre non stai a fare il furbo per farti dai soldi da un'altra parte io non l'ho aperto all'epoca e non l'aprirò adesso il padre proprio perché non voglio che venga letto come un ah adesso dobbiamo sostenerti noi no cioè adesso ci fai pagare a noi invece di no cioè falconero sei troppo etico per questo ambiente nettamente tutta le capisco la bellezza però no cazzo troppo c'è avuto due genitori abbastanza particolari da questo punto di vista per cui sono abbastanza tarato sotto certi aspetti come ho detto mi ho detto pure a falco privatamente io sono egoisticamente molto contento perché per me è tipo cioè vediamo che qualcuno che insomma sta roba della chiacchiera la sa fare che lo fa in un modo anche esagerato dal punto di vista quantitativo secondo me cioè c'è sempre quel dubbio del questa ha messo a mettere delle repliche dei video ogni tanto perché la frequenza di pubblicazione è un po' folle e sono contento che qualcuno faccia questa roba cioè del tipo stacchiamoci da tutto e vediamo se si può fare sono troppo curioso ma curioso sembra brutto perché dici allora magari sono curioso di vedere se gli va bene o gli va male no no secondo me va bene e sono proprio curioso di vedere le modalità della cosa come si tra l'altro a questo proposito a questo proposito cioè hai pensato già c'hai delle cose che non ci vuoi dire in anteprima strappiamo questa esclusiva io ti dico se hai già immaginato come sarà come cambia tipo che ne so una settimana tipo una roba forse non tantissimo giusto non tantissimo esatto semplicemente adesso e lo dicevo nel video c'è un risvolto positivo cioè spesso e volentieri a me proprio perché ho questi ritmi forse nati di lavoro a volte a me non sapere quando arrivavano i codici mi creava un problema perché a volte arrivava il codice e mi stravolgeva la giornata vero io adesso devo fare i conti col calendario so che il gioco X esce il gioco e mi organizzo così poi magari esce la demo prima più figo per carità però sono improntato sul calendario che è una cosa bellissima perché non mi devo preoccupare di correre a leggere l'email continuamente cioè da quel punto di vista sì ritmi un po' più rilassati per quanto la produzione poi dovrà rimanere quella certo le recensioni le farai comunque farai tu delle scadenze o non te le darai magari magari non te le darai il primo immagino ma che cosa che capitava già ogni tanto anche adesso adesso sto lavorando a Dragon's Dogma e quello che ci metto ci metto sono un po' lento purtroppo con questo gioco prendo schiaffi a destra e sinistra però insomma PC o console Dragon's Dogma l'ho preso su console proprio perché tanta gente dice come gira su console ah no mi ricordo l'ho visto l'ho visto all'inizio sì su Xbox l'hai preso sì mi ricordo l'avevi spiegato proprio per questo motivo è vero pensi che dovrai sostituire qualche tipologia di contenuto con altro sul lungo periodo o pensi che invece questo slittamento possa essere assorbito dalla tua community ma io ti dico penso che la community abbia risposto molto bene io non cioè dico la verità io mi aspettavo che quel video facesse 20.000 visite proprio perché era una cosa un po' no e che ci avesse 4-500 commenti è stato wow tsunami di supporto conferme comprensione anche della scelta che è la cosa che più mi spaventava perché credevo che tanta gente comunque non avrebbe colto avrebbe se sarebbe lamentata a me non mi interessa comunque sappiamo quanto è famelico il pubblico oggi tutto subito tutto il prima possibile per cui non credo cambierà granché l'unica cosa appunto è che certi format dovranno dovranno un po' rielaborarsi per forza di cose perché è normale che tante cose non funzioneranno più con quelle tempistiche cioè anche veramente le recensioni dovranno essere fatte in maniera un po' più diversa rispetto ad adesso magari con degli approfondimenti un po' più marcati un po' più lunghe magari più come fossero retrospettive a volte in base anche ai tempi che ci vorranno penso a Dragon's Dog ma non lo so quando lo finirò per cui sarà un po' diverso però ripeto ho una community molto ricettiva che tanto ha tantissimi punti in comune con quella di Walo per cui che non è così ossessionata dai tempi gli piace chiacchierare che è una cosa che io adoro e quindi tutto diventa un po' più vivibile anche per me ottimo dai dai secondo me no no mi piace mi piace mettiamo da parte le giuste paure secondo me che ci stanno di un po' c'è il rischio la roba la cosa hai anche detto Falco ecco questo può essere pure un'altra cosa interessante che a differenza della tua idea sulla questione sponsorizzazioni su cui a un certo punto hai detto basta smetto e su quello hai detto proprio chiaramente anche in questo video su quello non tornerò indietro su quest'altra cosa non è detto l'hai detto già subito no? cioè dipende appunto da se secondo te tu magari riesci a notare che il rapporto con l'industry potrebbe un giorno sembrarti una roba più congrua più tranquilla con le tue idee le tue cose eccetera ma il discorso che facciamo prima se dovesse nascere un sistema con paletti chiari con fini ben definiti allora si potrebbe rivalutare dopo averne discusso con la community ma credo che sia una cosa talmente lontana che forse lavorativamente parlando potrebbe anche non fare magari può essere pure una roba che cambia tipo il lato tuo che ne so magari come augurio pure no? che ne so ti strutturi diversamente in seguito alla crescita magari hai il responsabile marketing e già a quel punto la cosa cambia no? no anche perché guarda io proprio in relazione a quel discorso delle pressioni che non ci sono una cosa che ci tengo a dire è mi ha stupito anche tanto la reazione dell'industry alla mia scelta cioè la quasi totalità delle persone con cui ho avuto a che fare in questi anni a cui ho comunicato questa scelta non mi ha liquidato con ah vabbè ciao mi hanno praticamente quasi tutti detto oh se ci ripensi ti conosciamo quando vuoi la porta è aperta è una cosa che non mi aspettavo onestamente perché comunque io tante cose le ho dette in maniera estremamente a volte anche un po' caustica penso elettronic cards elettronic cards in questi anni ci sono state occasioni in cui l'ho massacrati e nonostante questo loro mi hanno voluto nel creator network e sono tra quelli che mi hanno lasciato le porte aperte cioè che è una cosa che non ti aspetti se pensi a tutte le leggende che girano in realtà è un'industria molto più sana di quello che sembra dall'interno sì con qualche compromesso perché il legame con i soldi è molto diretto in questo senso va capito che il compromesso non vuol dire il gioco ho parlato bene perché faceva una merda però non ho parlato bene perché sono pagato cioè è questo che è il messaggio che è difficile a volte di far capire ma sono d'accordo con te secondo me a compromessi ci sono dovuti scendere in tanti cioè ci sta ma ci sta anche nel lavoro cioè ragazzi in qualsiasi lavoro fate da dipendente da professionista da principale io che ho i dipendenti cioè tutti i giorni scendo a compromessi devo fare cose che non voglio fare cerchi di tenere una linea più possibile vicino a quello che la coscienza ti spinge a fare sì veramente d'accordo bene dai bene bene no chiudiamo una domanda però mandiamo al dentista esatto lo mandiamo dal dentista che devi fare sta capsula cioè se è da aggiustare sono curioso perché ho puri un dente dente devitalizzato ah ok ci devo mettere il capsulone ok 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 perfetto stiamo parlando di Lazio però non fai parlare di dentista ma sta cazzata i videogiochi ma salviamo questa stagione in corsa non è possibile ah la Lazio volevi chiedere la domanda Tudor ho chiesto Tudor Tudor che ti devo dire io allora ci voleva uno bello bello tosto e quello bello tosto è arrivato io spero che faccia quello per cui è stato chiamato al di là di come andrà sul campo però spero che a livello a livello umano e morale ci metta il suo ecco mi basterebbe quello vede gente un po' più professionale a volte ecco ci sta va bene ringraziamo falconero per essere un piacere ti rinnovo tutta la mia curiosità positiva per la cosa ti posso ringraziare pubblicamente a te in particolare te che sei tra i pochissimi che mi ha fatto che mi ha fatto una carezza ieri no era assolutamente sincera curiosità entusiasmo per la cosa ti confermi una persona come dico io quindi grazie ma ci mancherebbe no no ribadisco che è proprio sincero il fatto di dai se vediamo falconero come fa questa cosa che mi attira tantissimo e mi ispira tantissimo daje grazie grazie a Falco ciao c'è una tutta la comunità carabì 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 allora si conferma vostro troppo troppo bello il step canebra le robe mi fanno troppo ridere sono notoriamente giallorosso ma stimo falconero non posso dire lo stesso di Vito Giovana cioè questo è proprio quella non ci ho creduto non ci hai creduto è certo hai sbagliato l'aziale invece è anche molto bello fa molto ridere hai sbagliato l'aziale allora ci abbiamo da parlare di un sacco di cose oggi si hai giocato un sacco aspetta prima il titolo è adesso dopo un'ora giustamente vabbè perché comunque era bello l'argomento anche sia di attualità e sia abbiamo avuto l'occasione per parlare direttamente con falconero quindi è stato fantastico però il titolo era Vito hai tempo per giocare perché ultimamente è un po' la roba sta cosa questa settimana ne ha avuto di più però weekend molto libero un po' gli ho dato grazie viva mantechiglia per i 40 mesi di prime grazie un abbraccio digitale ho provato cose sto giocando due giochi li sto portando avanti certo non faccio 100 ore l'uno però sono andato avanti e uno ho da fare un pippone ho anche provato forbidden west su pc ah si mo ne parliamo poi ci abbiamo da provare anzi quando in questi giorni vorrei parlarne pure con quedex di forbidden west su pc perché poi quedex è console a merda è console a merda appena ma appena esce una roba playstation tipo che mo succede perché comunque quelli xbox escono in contemporane ma appena esce una roba playstation tipo il gioco di due anni fa che arriva adesso su pc quedex subito là cioè a provare fare vabbè fare prove schede video però c'è ovvio che ci mancherebbe il gioco non penso gli interessi veramente allora prima facciamo il sommario il pippone voglio sapere no prima il sommario sommario forbidden west pc documentari della digitale eclipse bellissimi sia su Atari Jeff Minter ah questi ne abbiamo parlato molto ultimamente però si le hai visti bene tutti tu eh no li ho provati un po' io non l'avevo mai trovati ok ok bello poi persona 3 ho speso pure 60 bombe persona 3 che sono a 12 ore e il pippone sarà su final fantasy 7 roba art che ho fatto 9 ore mi pare allora fammi capire che già non mi ricordo più horizon forbidden west su pc i documentari su jeff minter simili eh persona 3 reload e l'ultimo allora no mi sono perso solo l'ultimo final fantasy 7 roba art ah ok e il pippone questo è il pippone ci sarà il pippone vai allora cominciamo da horizon forbidden west per pc vai allora l'ho messo su anch'io come quedex un po' per provarlo con la scheda video per farci cose e mi sono fatto tutta la parte introduttiva intanto gira benissimo cioè con la 30 90 sempre con la 30 90 30 94 k tutto al massimo anche streamando era sopra i 60 calcola che streamando io mi sono fatto un'idea che perdi 10 frame 10 15 frame anche a volte dipende poi dal gioco dipende da quello che fai e stavo sui 70 frame quindi c'è gira proprio bene come è fatto bellissimo da vedere sempre schippando un po' i filmati che mi hanno ammorbato io l'ho giocato per video questo l'ho giocato DLC a me è piaciuto a me questo tipo di gioco piace comunque io mi sono fatto la prima parte mi è rivenuta un po' voglia di giocarci devo essere onesto perché a me piaciucchia il combattimento è fatto benino le arrampicate sono un po' da scimmie a lanciarte però tutto sommato devi guardare un po' dov'è la vernice gialla nella prima parte per esempio lo fai molto perché devi scalare delle torri devi fare delle cose è una roba gradevole e nel momento in cui ti sovralivelli non è una roba complicata altrimenti diventa un gioco un po' pesante sul combattimento per il mio gusto mentre sovralivellato io poi il gioco l'ho fatto tutto 4-5 livelli sopra tutto sommato te la porti a casa anche facilmente ok ti permette l'open world di fare le cose che ti piacciono ce ne sono un miliardo ma non devi farle tutte puoi fare quello che ti piace e io facendo solo le cose che mi piacciono l'ho finito me lo sono goduto allora ringraziamo V4Vendemmia per i 28 mesi di abbonamento livello 1 e lui ci dice più pipponi meno laziali però grazie V4Vendemmia un abbraccio digitale Vito il tuo monitor non è ultra wide giusto? no no ok e perché è una delle robe che vedevo scorrere nel questo è il trailer ufficiale delle caratteristiche della versione pc no io gioco un sacco di indie e secondo me è una roba in cui poi devi stare a smanettare per trovare la roba non sono pensati tutti in quel modo sarebbe una tortura per gusto mio personale io voglio un po' la console su pc si sono d'accordo su sta cosa allora intanto è ottimo che i giochi che escono su pc supportino un po' tutto quello che c'è da supportare questa è una roba bellissima sono se io dovessi scegliere pure io farei fatica pure se se mi facessi una postazione oddio se fosse la postazione principale farei fatica a non averla 16 noni perché secondo me è comunque un po' una roba ma già col 4k su pc io l'altro monitor l'ho preso un po' in anticipo su 4k che non era una roba su pc comunque problemini ce ne hai poi se parli con quelli ultrawide dicono no è tutto fantastico funziona molto bene non gli credo perché però loro magari la sbatta su un gioco l'altra volta per esempio a persona ho visto che ha dovuto spostare l'interfaccia ci sono mod tweaks deve avere quella voglia da pc di farlo non è un problema ma tipo persona tu lo stai giocando su pc persona su xbox ah su xbox oh questo è interessante dopo voglio no no ma la pirulan e letto ah vero vero no no finiamo la questione forbidden west prima se c'è tra l'altro c'è da sentire quedex sulle questioni sulla roba sull'ultrawide sulle altre robe poi sentiremo quedex io non me la rischio però non ho contatto diretto con i 4k lo posso dire invece no ti chiedo invece questo ti chiedo questo invece sono più di due anni dall'uscita del gioco su playstation secondo te io lo sai penso che tu lo sappia come la penso cioè io vorrei direttamente tutto da parte di playstation capisco la concorrenza con xbox e nintendo magari non fai uscire a parte che su nintendo sarebbe molto difficile per problemi tecnici però su xbox potrebbero uscire tutti i giochi playstation studios no ma capisco che questa cosa non succeda perché c'è un certo tipo di concorrenza sulla questione pc io sinceramente secondo me stiamo talmente avvicinandoci al momento in cui comunque sarà tutto cloud che forse proprio a loro conviene di più in questi ultimi che sono 10-15 anni vogliamo esagerare eh sì buttati già intanto su pc buttati subito tutto su pc secondo me loro il primo passo è fatto in quella direzione mi conquisto un'utenza anche su pc perché magari dovevano farla da zero nel momento cloud che in realtà non si sa esattamente quando sarà a valore 5-10 anni magari fare due cicli di console invece di un ciclo di console anche per me è scontato però l'altro giorno stavamo a fare la discussione in chat c'erano delle persone che per loro invece era impossibile nella vita impossibile impossibile che si vada a finire tutto nel cloud nel cloud dei giochi per loro era una roba in cui non si poteva arrivare per me è invece perché la strada è già iniziata se non sono 5 sono 10 anni se non sono 15 serviranno anche 15 però può fare la differenza persone magari fai un altro ciclo di console valone perché al momento il motivo per cui è arrivato dopo due anni è che vendi a me la console Vito Iovara non vuole aspettare due anni la console se la compri basta e tu mi hai tenuto dentro la console esiste la possibilità che esce un gioco e io dico vabbè però mi compro la console c'avevo la console ho preso PlayStation VR 2 stare nel mondo della console vuol dire anche portare soldi in un altro modo per me per loro quello è ancora oggi molto importante quando avranno deciso che non ci tengono e secondo me questi due anni scenderanno nella velocità di arrivo della roba su PC dopo che è uscita su console ti aspettavi che sarebbe già successo però perché la mia idea iniziale era fate questa roba comunque senso rispetto a non farla però è proteggiamo ancora la console le dichiarazioni di Totoki mi fanno credere Totoki se non sbaglio il nome che no adesso scendiamo un po' quelli che Vito Iovara se scomprano la console vogliono entro sei mesi il gioco già sei mesi probabilmente per loro è troppo tardi e quindi sti cazzi andiamoci a prendere subito i soldi su PC quindi mi aspetto oggi che si scendano magari a un anno magari a sei mesi non al day one al momento non me lo aspetto è troppo presto per la loro idea di vendere comunque anche il pezzo di hardware sì però è un mondo migliore cioè io lo vorrei anche da Nintendo nettamente cioè sarebbe il mio sogno è Nintendo che prende questa strada di Sony a due anni non li voglio manco prima a quattro anni perché io Mario Odyssey in 4k su quel sfruttore gioco oggi te li do due volte i soldi esattamente come faccio lui in GTA allora intanto Deleu che salutiamo dice che ci sta gioiando anche lui su PC ed è spettacolare non faccio fatica a crederci ragazzi questo gioco è bellissimo su PS5 figuriamoci su PC cioè due anni dopo quella stessa roba la spinge al massimo mi immagino proprio infatti magari un giro me lo faccio pure io sai qual è il peccato grosso che è una stupidaggine che avevano fatto anche col primo non dare la possibilità con un personaggio apposta di entrare subito nel DLC che comunque era più figo da vedere secondo me perché era tutto spiagge robe belle e invece devi arrivarci giocando di tutto il gioco secondo me fai la versione PC SuperSvr fai perché se entro direttamente secondo me quello è proprio poco il fatto cioè penso che loro immagino che siano pochissimi quelli che ce l'hanno su console e se lo comprano anche su PC secondo me è proprio ma uno può interessargli solo di dire sì le spiagge così come a me poteva interessare del primo solo la parte invernale ok dai un personaggio di 0,50 di default sì perché stiamo sempre parlando di persone che a te è successo questo perché tu l'hai già giocato su PlayStation nel primo capito quindi loro dicono ma quanta gente evidentemente sanno che non è tantissimo secondo me la paura è non ti do il personaggio perché devo rifare la parte tutorial per quelli che invece entrano solo per fare quello allora invece Arius dice stupisce molto che l'utenza PC sia così ricettiva verso la roba PlayStation parliamo pure di questo questo pure è interessante secondo me cioè secondo me c'è un qual è il messaggio scusami che dice che lui è stupito dal fatto che la gente PC sia così ricettiva verso la roba PlayStation secondo me è la percezione di due cose uno che sono giochi fighi di chiacchierate da tutti poi attirano obiettivamente a livello estetico di narrativa ti dà un certo fascino ti esce The Last of Us God of War Horizon Spider-Man e in più c'è pure quella cosa di dire io gioco su questa piattaforma un po' mi spiace perdermi delle cose che non ho che ci sono su altre piattaforme appena arrivano mi ci fiondo a pesce tanti PCisti non rinuncerebbero mai alla loro idea di videogioco su PC ma non è che gli fanno schifo i videogiochi delle altre piattaforme io ho l'amico Tony che la roba Nintendo la giocherebbe ma non pensa mai nella vita di comprare una console certo ragazzi se ti piacciono i videogiochi secondo me è molto cretina la posizione non mi piacciono i giochi Sony i videogiochi si sono belli si sono brutti ovunque e questa idea dei due mercati molto separati abbiamo visto che era una cazzata cioè i giochi giapponesi che non arrivavano su vi ricordi su PC una volta non poteva arrivare il gioco giapponese e oggi Persona ci arriva i Yakuza fanno il botto una volta la roba PC non ci arrivava l'idea loro era proprio che su PC non avrebbe venduto perché era un particolare esattamente come Diabro non poteva arrivare su console o picchiaduro pure generi interi picchiaduro non si portavano è stato un momento storico in cui no erano generi abbiamo visto che la gente è giocatore se gli dai il gioco bello gli piace se lo compra certo per me è quell'altra posizione che era pazza non questa arriva in gioco Sony Johnny è brava a venderli anche ad affascinare l'universo di Horizon Zero Dawn poi rispondiamo alla domanda sul gioco piaccia o non piaccia è una figata assurda secondo me parlando di un universo post apocalittico diciamo con i dinosauri i robò le macchine i robò cioè che cazzo vuoi sulla carta è fantastico poi può non piacere il gioco per carità di Dio c'ha un sacco di robe che possono non piacere ma poi legheremo questa roba che non vi piace faccio un al pippone su Final Fantasy ok nel frattempo io voglio far notare che siamo a un'ora e dieci di live non sono state non sono stati fatti commenti su pronunce e robe del genere faccio notare però l'hai fatto notare penso qual'era la domanda magari avevo pronunciato bene pensa così invece stai dicendo nel sottinteso che ho pronunciato male ma non è stato fatto notare assolutamente parlo di tutti chat chat di me che ne sai tu che ne sai non avere la coda di paglia allora io dove la dove va eccola qua da un volpo ma chi è no aspetta prima vi for vendemmi invece sui monitor ultra wide dice che lui ne ha comprato uno si trova benissimo i maggiori giochi tripla A e anche i doppia A sono ormai tutti sopportati e implementati automaticamente gli indie dice che è quello un po' che immaginavo pure io no che hanno sono in 16 noni hanno le bande nere laterali vabbè quello non sarebbe un problema non immagino è quando si spiattella che è negativo no ma a volte proprio non la riconosce quindi ti crasha quei 4k a volte le sfinche erano sballate cioè dovevi fare dei giri del cavolo per farlo funzionare non è quando non è pensata la risoluzione a volte hai più problemi proprio capito invece Don Volpo che diceva domanda per chi l'ha giocato domanda sulla serie giocatore che ne può fare di Far Cry Assassin's Creed esatto uno che non ne può più di Far Cry Assassin's Creed può valere la pena giocare questo Horizon è l'ennesimo mondo quantitativo e mediocre o ha qualche freccia ludica al suo arco allora ti dico prima io Vito che cosa ne penso poi sentiamo tu che dici secondo me il genere è quello cioè il come dire la struttura il tipo di gioco è quello gioco in vabbè in terza persona per rifarci Assassin's Creed Far Cry ovviamente in soggettiva però come è strutturato il mondo l'idea di One World anche esatto anche le missioni principali secondarie un po' sono gli Assassin's Creed della trilogia recente prima di di quest'ultimo che è uscito che non mi ricordo mai come si chiama l'ultimo Assassin's Creed Valhalla no quello Mirage Mirage esatto Mirage per piccolo però non è esatto prima di quello la trilogia precedente è quella roba là Horizon Forbidden West così come Horizon Zero World Zero Dawn sono quella roba là ma è la domanda può piacere a uno che non ne può eh sì può piacere comunque perché perché è diverso ci sono varie altre cose diverse il combattimento è diverso il fascino dell'ambientazione è proprio tutta un'altra roba il combattimento ha proprio più qualità sull'ambientazione è gusto il combattimento secondo me è più una roba di qualità secondo me è gusto Vito è diverso è molto diverso invece è proprio più qualità quello di Valhalla è proprio banale come combattimento questo c'ha più possibilità un banale è Souls Light cioè nel senso un po' combattimento sì action RPG anche al tasso RB fondamentalmente almeno a livello normale manca tardi il tasso l'ho spaccato con Odyssey ad Argo è RB spaccalo basta questo c'ha un po' più di team devi giocare con le munizioni sì qua devi fare le cose devi colpire i punti precisi delle macchine a più potenziale la nota positiva è il paragone con Origins perché anche Origins Assassin's Creed lo faceva cioè ti permette di non dover fare quasi tutto di scegliere di fare soprattutto la roba allora questo secondo me di più Horizon meglio di tutti anche di qualunque Assassin's Creed degli ultimi perché già Origins Origins te lo permette Origins sceglievi abbastanza insomma 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 un po' c'ha la difficoltà sul livello eccetera un po' ce l'hai quasi io ho spazzito più questo la difficoltà il dover far male di Origins c'è sto ricordo di Origins ma Origins forse perché mi piaceva più roba ne facevo più in automatico io però Origins secondo me andava molto dritto questo no questo io ho avuto la prima parte che erano schiaffi ho dovuto livellare facendo anche cose che non mi piacevano quando mi sono messo a livello poi è diventato scegliere capito questo per me la prima parte devi fare un po' più di minchiate sì vabbè comunque magari sì sì dipende però in generale sei d'accordo pure tu che è un po' dipende cioè nel senso non è facile dire la struttura è quella degli Assassin's Creed sì però ma questa struttura oggi la trovi un po' ovunque messa in modo diverso dipende cosa ti dà fastidio magari a te dà fastidio l'interfaccia su schermo dei mille punti per carità di Dio questo è forse peggio di Assassin's Creed se ti dà fastidio dover far cose che odi è un conto se ti dà fastidio far male dovremmo capire anche esatto mentre invece il combattimento addirittura Delu dice mi ricorda Monster Hunter a livello di meccanica diciamo beh come concettualmente certo che ricorda Monster Hunter assolutamente metti pure le trappole coi fili le bombe le cose ti organizzi prima vai a studiarti il mostro c'hai l'elenco delle parti deboli sì c'ha molte cose anche non è proprio più stratificato c'è un po' di ispirazione da Monster Hunter sicuramente banalmente rispondendo a Don Volpo a me non piace l'Assassin Creed Valhalla questo piace quindi evidentemente qualcosa di diverso te lo dà allora Arius ti minaccia Vito dicendo parlate di Final Fantasy che devo andare via e voglio capire se Vito rimane un amico o no però noi avevamo prima in scaletta Persona 3 Reload quindi Arius devi aspettare o no o volevi parlare di Final Fantasy adesso ci sta a mettere abbiamo detto alla fine parliamo che è pippone ah è pippone allora no parliamo prima di Persona 3 annulla i tuoi appuntamenti Arius Arius annulla i tuoi appuntamenti Persona 3 Reload abbiamo tempo ci abbiamo un'ora e mezza allora Persona 3 è quello che sto proprio adorando alla follia infatti mi sono sparato 12 ore sì belle data pirulana ma ho fatto anche una nottata e ci ho giocato un po' ieri al momento sta funzionando da Dio e sono sorpreso di quanto sia moderno probabilmente le aggiunte che io non posso capire cioè le robe che hanno aggiunto in questo remake lo hanno reso ancora più veloce di Persona 5 in tante cose più proprio immediato sparato non riposi mai non ha le prime due ore fantastiche di Persona 5 a livello proprio di coinvolgimento di trama dopo 12 ore la trama generale non è che abbia fatto sti grandi passi quello tutto il resto è un veramente un bijou funziona perfettamente vai veloce impari tutto capisci tutto per farvi capire quanto le cose quando sono fatto bene sono fantastiche anche per chi non ha voglia di studiare i giochi io so quali nemici hanno i punti deboli perché te li fa giocare è tutto il combattimento non so se tu mi hai toccato un Persona si ho giocato un pochino una ventina d'ore il 5 ho giocato una decina d'ore il 4 e non mi ricordo se questo lo avevo pure avviato pure questo o no non mi ricordo il combattimento è basato sullo scoprire il punto debole non li conosco benissimo no no però è il combattimento devi scoprire il punto debole quello dopo sei giocato vent'ora verso 5 l'hai capito e quella roba te la ricordi perché arriva arriva nel modo giusto poi ogni po' si spiega una cosa poi all'inizio puoi fare tre cose sociali poi se ne aggiunge una poi c'è la parte di scuola in cui ti devi ricordare poi però si aggiunge un'altra cosa alla fine devi fare scelte e tutto è fatto con un ritmo veramente fissato veloce non ti posi mai boh tant'è vero che sul Tapinolan mi scordo di stare sul Tapinolan è fantastico sul Tapinolan sto gioco e la cosa che mi preoccupava di più che era quella a rischio che era il dungeon che a differenza di Persona 5 che aveva una parte bellissima per farmare aveva i dungeon sono strutturati tutti diversi questa è una stanza roguelike che si roguelike procedurale che si ripete uguale per scaglioni cioè tu ti fai veramente venti piani di un dungeon tutti identici però funziona molto bene molto meglio di quello di Persona 4 per quanto vi ricordo io che invece era noioso dovevi trovare il save perché questo ha dei punti di save in cui puoi tornare alla base e saldi per il resto te ne vai dritto ti fai sta stanza combatti con i nemici e somiglia più alla parte di farming del 5 poi arrivi a un punto in cui si blocca e a quel punto c'è la parte di drama in cui ti fai il boss ma funziona bene quella parte mi piace molto più del 4 e non mi sto annoiando mai poi c'è la parte che chiacchiere devi leggere ci sta secondo me funziona meglio del 5 che era tanto proprio leggere Whatsapp cioè tanto di Persona 5 leggere le comunicazioni delle persone sul loro social mentre questo non ce l'ha questi si parlano evidentemente non c'erano ancora all'epoca si parlano come persone umane con gli scambi e con i dialoghi con una veste grafica che è strepitosa secondo me tra l'altro pulitissima rifinitissima bobella può uscire oggi come un gioco di oggi wow vediamo come si muove la trama principale ma fino adesso sono stra convinto esagerato sì ma secondo me l'oro cioè un po' per molte persone sarà un gioco di oggi nel senso che a fine vabbè per me per esempio no tu però lo sai anche magari molti neanche cioè tipo arriva nel game pass c'è l'abbonamento lo prova e dice che bello questo quindi tu confermi che può funzionare anche così Davide Maus dice no per me è troppo tirata la parte di tartaro e la parte in giro della città è sempre uguale vada al tipo metta affinità vai a dormire la sera e ripeto non lo capisco proprio questa però è la serie persona che non ti piace a te Davide quella invece quella parte ripetitiva che lo è non è che ti dico no minchia è super gameplay quella parte serve molto a fossilizzare i rapporti con i vari personaggi quando arrivi alla fine del gioco con i personaggi hai maturato un rapporto questa cosa gli riesce molto bene io me la ricordo che era riuscita benissimo in GTA 4 per esempio con me non funziona a me io non mi appassiona le persone dentro ai videogiochi non me ne frega niente sono lì a tenere la mano alla bambina per 50 ore arrivare a fine gioco poi fa ammazzare prendi la c'ho da far altro in GTA 4 queste robe invece funzionano molto bene con me cioè in GTA 4 quella roba che non era neanche bella da giocare però alla fine era arrivata che prendono mio cugino voglio uccidere tutti vaffanculo cioè quindi questa roba funziona in quel senso è un gioco giapponese c'ha il suo ritmo assolutamente deve piacere non direi mai a qualcuno no personatrice dove devi giocare per forza perché è fantastico su tutto minchia no calmi persona è una roba va capita e deve essere il tipo disposto ad accettare la componente narrativa che per esempio a me è piaciuta in 4 un sacco la parte di scuola perché c'erano i professori che ti dicono cose e poi tu le devi memorizzare perché quando arriverà la fase di test le domande arriveranno su alcune di quelle robe è una roba che mi fa impazzire nel 5 mi ricordo che c'era meno per dire e quindi c'è la parte di scuola poi devi decidere la parte non è solo andare chiacchierare ma è decidere come progredire e in cosa progredire perché tu ovviamente a un certo punto il ventaglio di possibilità si amplifica e devi fare delle scelte le scelte incidono tanto sul combattimento perché tu ha migliori un tipo di rapporto che ha influenza su tutte le carte di quella famiglia che ti servono in combattimento su tutte le persone di quella famiglia e quindi devi scegliere cosa faccio oggi come ottimizzo i tempi che è una roba che a me piace nella vita cioè non sprecare gli attimi di vita ieri per esempio la scelta del cinema nella mia vita reale è stata vado alle 15 così quello finisce alle 6.30 così appena esce alle 6.30 me ne vado a cena a che ora apre il ristorante 6.30 perfetto così torno a quell'ora gioco e persona è esattamente un gioco di ottimizzare i tempi e non sprecare le mezze giornate perché se tu fai una cosa al momento sbagliato arriverà il momento in cui dovrai fare un doppione se tu te la sei giostrata bene prima invece riesci a fare tutto e portare a casa compimento però già adesso si è aperto tantissimo dopo 12 ore ho tante possibilità la parte di combattimento secondo me è la migliore visione di GLPG moderno perché è un GLPG classico a turni scelgo ma funziona in un modo tanto diverso scelgo il punto debole uso la magia sì però se sono tutti a terra allora posso fare l'assalto l'assalto mi dà una carta arcana che mi migliora la cosa però quando il primo va a terra posso decidere di cambiare il combattente così so che quell'altro usa il punto debole cioè è una roba che secondo me è la roba più bella di GLPG sempre in questo momento storico mi piace questo entusiasmo per Persona 3 poi in tutti i persone io sono arrivato quelli che ho giocato sono arrivato stanco alla fine a cento ore io arrivo proprio infatti non ho preso un good ending mai nella vita ci arrivo che poi a cento ore per me è importante che però tu ci passi dentro ottanta cento ore se ne frega di come va a fecire Persona 4 è finita male per scelta proprio perché là proprio sono arrivato a dire no no vabbè prendete voglio il bad ending non me ne frega un cazzo Persona 5 meno perché invece mi stavo ancora divertendo non sono riuscito a farlo però vediamo però se ci faccio 80 ore sono esaltato ma che me ne frega per il momento il ritmo è proprio giusto è tutto perfetto allora Aquana che salutiamo chiede ma il 3 è lungo quanto il 5 perché a me è piaciuto un botto l'ho pure voluto completare al cento per cento ma praticamente mi è durato un anno intero il 5 immagino il 5 dura molto di più il Royale stiamo per completarlo bene stanno sulle 150 ore io bad ending ne ho fatte 100 questo che io sappia su una sessantina sono lunghissimi sti giochi però scusa lunghissimi ma di neanche cioè di robe di contorno o proprio è un po' di robe di contorno metà in metà c'hanno proprio due anime una è tutta narrativa e una è combattimento e sono lunghi le persone 5 potevi pure aggiungere altre cento ore di combattimento perché tu potevi prendere delle porzioni di giornata per andare a farmare e tu buttavi là dentro siccome il combattimento era figo ci potevi perdere veramente le giornate cioè ci sta io ci ho perso le ore solo a fare quella ecco perché persone 5 mi dura anche tanto più poi se il farming ti piace ed è una roba che ti aiuta è figo trovavi roba poi trovi gli oggetti fai i soldi fare i soldi ti permette di scegliere di più le attività perché al momento appersonatele all'inizio posso scegliere meno ho meno soldi alcune attività costano soldi e tu non puoi farle tutte vabbè vabbè sai che questa parte mi attira cioè invece di anziché spaventarmi mi attira anche perché i colori secondo me sono bellissimi di questi giochi praticamente anche il filmato è proprio bello cioè io infatti di persona 4 ho comprato la serie tv perché i filmati erano già una serie tv erano stupendi bene bene allora possiamo da qua passiamo a Final Fantasy VII Rebirth vediamo dopo i documentari ah no no i documentari i documentari facciamo soffrire questa attesa per Final Fantasy VII perché sarà Pippone e là litighiamo con qualcuno secondo me oh bello ma sono solo un teaser ma hai finito il gioco no ah ah già c'è Pippone già c'è Pippone poi su una roba allora Pippone è ancora più interessante per me se non è sulla bello io sono qui io qui appostato per Final Fantasy VII Rebirth diceva Guana che si aggiunge a Jigs e Firoth che ha detto eh sono tutto orecchie ma sentiamo anche Persona 3 diceva Jigs Persona 3 l'ho fatto con te Arius 80 io sono a 60 ore dice di attesa della chiacchiera non del gioco ma di attesa della chiacchiera di Vito su Final Fantasy VII Rebirth allora no i documentari aspetta fammi trovare dei riferimenti come si chiama non so quale vuoi mettere l'ultimo uscito o un altro puoi mettere Atari dai che secondo me è il più figo no ma com'è la casa come si chiama Digital Eclipse Digital Eclipse Atari tipo ok no esce una roba allora metti Jeff Minter che lo trovi sicuramente Digital Eclipse Jeff Minter no metti l'ho fatto vedere io c'è una live solo di quello che ho fatto vedere io Lama Soft ecco qua Jeff Minter Story launch trailer ecco mettiamo questo dai ce lo teniamo questo in sottofondo da questo canale probabilmente arriveremo anche agli altri dici tutto Vito dici tutto le sei provati a fondo no non a fondo ho fatto una live come sono detto più da dire li hai visti o li hai giocati che cosa c'è da dire entrambe le cose in realtà entrambe le cose come funziona ed è la roba più sorprendente intanto ne ho sentito parlare bene ho deciso di prenderli sulla fiducia e sono fantastici sono fantastici perché sono divisi tu hai una una narrazione allora aspetta ti faccio delle domande troppo preventive perché secondo me è interessante per sapere per chiunque anch'io proprio non lo so sono prodotti per pc cioè sono software per pc video giochi sono su steam dove li compri io li ho comprati su steam li hai comprati su steam sono venduti come se fossero videogiochi sono venduti dentro lo steam store quindi sì cioè fondamentalmente vanno a finire nella tua libreria di videogiochi assolutamente ok perfetto per far capire di che stiamo parlando e costano 20 euro l'uno sono circa no? eh sì forse già mi intera uscita costa un po' di più alla trentina ah ok tra i 20-30 euro sono documentari interattivi li possiamo definire così? assolutamente sì ok con anche la possibilità di essere videogiochi e basta perché la tu hai all'inizio un menu diviso in capitoli il primo capitolo è giocate i giochi nel primo caso di karateka c'è karateka e ce ne sono anche altri in caso di atari c'è una carrellata di atari di jeff minter c'è una carrellata di jeff minter e tu puoi semplicemente selezionarlo e giocare ok poi esci da lì e torni a vedere i capitoli in cui poi c'è anche il collegamento ai giochi una cosa figa che non mi aspettavo di quando giochi è che puoi vederli con intorno poi ovviamente nelle opzioni puoi toglierlo la versione originale del cabinato del computer in cui usciva il gioco che ne so vedi pong lo fanno vedere con il cabinato di pong non so come chiamarla la struttura del cabinato che vedi per darti proprio quel tipo di sensazione molto uno a uno che è proprio bella da vedere poi non è che giocherò pong mille ore lo provo tre secondi però avere quella riproposizione è anche molto visiva tutta una roba che ti fa sentire dentro alla cosa ma mi piace proprio di base un sacco quest'idea e poi la parte vera è il documentario questi sono i giochi iniziali il primo capitolo lui ti dà un titolo e tu vai dentro all'interno c'è una una striscia proprio orizzontale che l'abbiamo vista passare esatto la vedi anche in verticale divisa a temo e là dentro ci sono i vari passaggi tra cui immagini interviste filmati di repertorio tipo dell'Atari c'è un pezzo di documentario di repertorio di non so che televisione del 1870 in cui lui racconta di cosa pensa che sarà l'Atari in futuro oppure vedi un pezzo di DG oppure vedi una roba è proprio bello come è fatto da vedere così tutto molto ripulito sotto l'itolo in italiano che per me fa tutta la differenza del mondo ho deciso di comprarli quando ho scoperto che aveva sotto l'itolo in italiano ed è super gradevole cioè se vi piace questa roba in cui parlano della storia poi arriva il momento l'anno di Pong oh provi Pong clicchi invece che vedere il filmato boom c'è Pong e tu se vuoi ti provi Pong mi piace un sacco sto fatto li vorrei anche su console non c'è solo non sono usciti su console non lo so magari guarda secondo me è adattato già per pad quindi non è impossibile anzi funziona molto male con la tastiera perché non funziona il mouse cioè l'invio lo dai solo in via sti giochi qua cioè sì sì ma anche lo scorrimento del documentario non va col mouse l'invio il click non funziona ho capito ho capito ho fatto proprio per controller vabbè però oggi non è più una roba tipo cioè per pc esce un sacco di roba che è pensata per controller soltanto ah certo quindi per me non è impossibile allora PC tu li dice su switch sicuramente ci sono no ma sai che è probabile ma forse l'avevamo visto anche l'altra volta adesso io che sempre come al solito non mi ricordo niente e probabilmente l'avevamo visto su andiamo a vedere su playstation store per esempio giusto per curiosità così anche chi è interessato lo può sapere allora digital e clips vediamo un po' se viene fuori sta roba no ecco vabbè poi qua c'è anche il problema della allora l'amasoft vediamo l'amasoft ma l'amasoft è solo quello si si esiste ah diciamo comunque ti cerchi digital eclipse su playstation store e non ti esce niente cioè ti esce altra roba non ti esce la roba che ti deve uscire l'amasoft invece te lo fa trovare l'amasoft ti fa trovare l'ultimo the jeff minter story eccolo qua il documento esiste 28 e 99 su playstation store quindi ok ci faccio un pensierino questo secondo me deve essere proprio interessante io le ho trovati meravigliosi per esempio karateka 18 e 99 costa questo e questo pure questo questo l'ho giocato ed è bellissimo non lo sapevo che era dell'atore di Prince of Persia ma le animazioni lo sfondo i colori del suo gioco sono una roba fuori di testa per quanto è bello tra l'altro è bello anche il controllo del combattimento ma proprio bello e quindi mi fa mi ha fatto anche un sacco piacere scoprirlo sto gioco bello fantastico non si parla minimamente anche di Prince of Persia no qua ancora non l'ho letto tutto nelle prime parti non se ne parlava cioè c'è proprio lui bambino lui ha 13 anni mi sembrava sta roba magari poi cioè se hanno successo queste cose ne fanno guarda sono numerati Atari 50 no Karateka è numerato come 001 e Jeff Minter nel trailer c'ha 002 su Steam no io sono impazzito per questa cosa perché mi dà un fastidio del cazzo però in teoria sarà una serie bellissima se la continuano così dai è cambiato l'audio di Vito dice Marco Joker 98 sono pazzo se è robotico riavvio io ti sento uguale però vabbè riavvia per sicurezza vediamo un po' che cosa succede bellissimi comunque questi allora vediamo l'altro quindi l'altro è Atari 50 ta 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 eccoci qua allora Atari 50 39 99 il prezzo questo è il più grande però c'è un sacco quindi costano 20 30 e 40 tipo più o meno un po' meno di 20 un po' meno di 30 e poi 40 euro io ho preso chiavi poi Steam era nella fase di sconti quindi costavano meno però quello di Atari ha senso perché dentro di giochi ce ne sono un po' magari questi pure questi pur arriveranno a essere scontati un po' in generale qual è il tuo preferito proprio Karateka no sulla carta per quante robe farà Atari credo che sia la roba che mi interesserà un po' di più perché prende proprio più uno spazio prende più gente adesso stavo vedendo per esempio oggi la storia di Pong c'erano il tizio che andava a riparare che racconta l'aneddoto quello delle è rotto Pong che viene a ripararlo ed era il problema che si erano inceppate le monete ok ma c'è dentro le 100 giochi dice comunque di base cioè comunque eh quello di Atari è grosso dentro ce l'ha un video ma è anche cioè se tu la vuoi usare come raccolta di giochi c'è anche questa tranquillità non devi subirti parti di documentario io ho detto il primo capitolo è libreria giochi quindi tu ci vai in qualunque momento una volta che hai sbloccato il primo capitolo non lo devi sbloccare è subito così al gioco il primo è libreria punto e poi puoi dividere la libreria per anno per tipologia eccetera eccetera quindi è proprio pensato anche in quel modo là è una figata anche dal punto di vista di conservazione certo allora Divino Telma dice Walo prima di comprarlo ricordati che Vito è anche quello che pensa che Season sia da Goti che poi non è vero perché il Goti ricordo l'ha vinto Spider-Man 2 nell'anno che ha battuto Spider-Man 2 ha battuto Season questo ha fatto ovviamente rivalutare la figura di Vito Yuwara agli occhi di noi tutti in realtà avrei avuto più critiche perché non se l'aspettavano da te ma perché non se l'aspettavano da te perché ti hanno catalogato classificato ma non è vero perché quando parlo di Spider me l'ho detto che a me ne piace con sacco Vito Yuwara non è catalogabile è un e diciamolo giudica quello che c'ha davanti se gli piace o no vito pagato da Sony evidentemente vabbè parliamo di Final Fantasy sì parliamo ah così sicuro che non vuoi dire qualcos'altro sui documentari per far soffrire intanto Arius non è andato via perché si minaccia si minaccia ma poi non si resiste alla chiacchiera di Vito su Final Fantasy 7 Rebirth che poi allora aspetta a quante ore di gioco stai? credo nove otto e mezzo ah ma appena iniziato quindi praticamente appena iniziato c'è già un pippone da fare ma questa è una roba importantissima allora sempre per sfizio ti chiedo pippone cioè è una roba negativa ce l'hai un po' c'è qualcosa il pippone è sulla roba negativa ce l'hai un po' col gioco ce l'hai un po' col gioco ce l'ho su una porzione del gioco e anche sui giocatori anche sulla critica no perché non ho letto abbastanza anche sui giocatori ragazzi tutti pronti intanto in chat attenzione vai sentiamo iniziato il gioco parte più lento del remake e vabbè ci può stare perché comunque il remake era proprio particolare in quella cosa Scasi vuole essere salutato nel podcast aspetta che me lo senti segno vai Vito intanto ok il mio non è un giudizio sul videogioco in sé ma sull'open world di Final Fantasy perché ci sono arrivato come al solito io sui giochi senza conoscere molto sono arrivato nell'open world e io non trovo tollerabile che a me non sia arrivato che l'open world è una merda e che voi siete convinti che sia un gioco fantastico aspetta però ci credo sono stato troppo delicato perché io non posso non ce la faccio più a sentire i pipponi su Ubisoft che fa gli open world a me tutti uguali allora Vito ti dico una cosa metterò un video per una questione estetica di bellezza non guardare ok metto metto un video di Final Fantasy 7 dove ci sono delle scene delle robe trailer ufficiali solo trailer ufficiali o di playstation o di square enix però apprezzo che tu oggi non guardare lo faccio per una questione estetica allora e devo dire ho fatto ho fatto la prima parte ok poi ho fatto una parte di my world per cercare di capire il combattimento che mi piace anche devo un po' ancora capirlo bene però tutto sommato vedo che c'ha delle possibilità non mi piace esteticamente no si è andato Vito appena è partito il video tra l'altro in segno di protesta qua però ecco qua che è successo non guardare il video non guardare il video esteticamente l'open world è bellissimo mi fa impazzire ma quello che si fa è una porcheria infame ma stiamo parlando non di livello Ubisoft perché porca miseria Ubisoft lei sa fare queste cose può non piacere lo accetto se mi dici Far Cry 6 a livello di gameplay fa un open world che mi ha cagato del ca io sono d'accordo io mi ci diverto ancora però ti dico lo capisco alzo le mani ok quello che non capisco ma sono anche d'accordo sulla differenza che fai cioè che la roba comunque è fatta bene nel senso ti può scocciare che sono i segnalini ti può scocciare questo però alla fine è una roba che funziona a livello proprio di non so come dire di proposta software funziona molto bene la roba Ubisoft quindi sono d'accordo poi è chiaro la roba Ubisoft funziona se ti diverti a fare quello che ci fa è una roba che può succedere se Far Cry 6 non ti piace lo sparatutto perché fa cagare perché è troppo sporco e lo è capisco che non ti piaccia la formula però il problema è che può arrivare a stancare pure soprattutto io nonostante ne voglio nel gioco almeno volentieri 100.000 però il chiaro deve essere non è un problema se la formula ti fa schifo è il The Ring è la lore è bello perché non c'è la formula poi Final Fantasy VII non può essere il gioco migliore del mondo perché prende quella formula e la ridicolizza le cose poi magari parziale sono nove ore e mezzo magari adesso ho visto la parte di My World più schifosa poi arriva la parte bella poi ne riparliamo e vi dirò avete ragione o no la prima parte è offensiva cioè io ho fatto delle cose che mi offendono in Final Fantasy VII cioè sono andato a raccogliere margherite sono 15 anni che rompo i coglioni ai giocatori di Destiny perché prendendoli in giro c'è la missione di prendere margherite e qua c'è la missione vai là e prendi la margherite che dici vabbè fa contesto e insomma sì però vado là c'è sta un campo di fiori e raccogli la rosa blu raccogli la rosa gialla e raccogli la cosa rossa ma senza cioè che che è semplicemente poi una roba di che succede e basta fondamentalmente no no ma al di là di questo cioè è una roba che non è che ci devi cioè la cosa come avviene che succede e basta cioè vai là banalmente no no devi andare da una che ti dice voglio le corone dei fiori raggiungi le corone dei fiori raggiungi senza fare niente cioè ci vai cammini cammini e basta con i sciocco il problema è che è pure molto giapponese imbalsamato in quello che vuole fare la torre di Ubisoft sappiamo che le torre di Ubisoft hanno cagato il ca per anni che erano insopportabili già in Breath of the Wild c'erano le torre di Belle siete l'incoglioniti cioè è la stessa torre no vabbè magari sono più belle da giocare no è vero il cazzo perché Ubisoft ne faceva tutte uguali sì erano belle ma io sono d'accordo Far Cry erano fighissime nei primi Far Cry in Assassin's Creed non erano schifezza non è che Zelda in Zelda facevano anche più cagare cioè non è questo e lo fai a quei tempi loro cioè tu devi fare la torre devi andare là schiacciare un bottone poi c'è una scaletta in cui lui sale molto piano poi ci devi fare un po' di passerella in cui poi c'è un'altra scaletta e tu sali piano piano poi arrivi alla terza passerella e rompi tre casse del kite e butti da sotto e questa roba super invalsamata c'è un po' ovunque in questa struttura del logo world tipo i checkpoint che ti devi alzare a mano tu ti checkpoint devi prendere il socio cobo che poi a volte se gira un po' come gli pare devi andare a prendere il palo della cabina e tu lo devi alzare a mano schiacciando un tasto che lo tieni premuto a volte ti scordi e lo tieni premuto e quindi lo devi premere due volte animazione che tira su sto palo e allora il checkpoint è valido e tu dici allora uso il checkpoint e no ti serve il cuscino per sederti nel checkpoint e tutte le altre robe sono tipo il piccione che ti porta nella grotta l'altro tipo di uccello che ti porta dai mogori la missione dentro dei mogori ma la roba madonna mia ragazzi cioè inseguire sei presente la roba di mettere capri nel recinto quello ha fatto cioè questo per sette ore non può essere tollerabile oggi secondo me deve venire fuori che facca poi ho fatto una parte successiva all'open world ed era bella perché ho fatto un bel combottimento come si chiamano come si chiamano i mogori dai questa non posso averla sbagliato ah mogori e Vito non è ancora visto il page ma io spero che che possa un po' scappare da sta roba perché invece dicevo sono andato avanti c'era un serpentone bello cioè il combattimento non l'ho ancora capito però cioè quel combattimento è stato figo comunque sono morto cioè serve un po' di impegno tutte le robe anche la roba di caccia dove va a fare la caccia c'hai sto droide bambino robò rompi i coglioni con ogni cosa te parla parla sempre tu stai lì ogni missione a fine missione c'è lui che apre il computer e e perdi secondi di vita secondi di vita secondi di vita quanto vi fa schifo la vostra vita se sta roba vi dà fastidio perché non è far cry vado là ammazzo tutti mi piace a me non è eurotrack mi metto su un camion sono i secondi di vita che avete guardato il bambino robò che vi dice una cazzata che secondo me non quantificate non vi volete bene perché quella roba deve uscire fuori che vanno derubato cinque ore di vita questo io non capisco come fanno in fastidio di uno che oggi sai come funziona la rampicata c'è presente la rampicata di forbidden west o di uncharted scimmia schiacci il tasto tutto tutto sale qui è uguale solo che è lenta è riflessiva quindi si aggrappa al primo passa dei secondi in cui non puoi non va avanti cioè sta fermo quindi ripremi la levetta e mi fa tu hai giocato un po' non mi ricordo no non ho avuto tempo ho proprio lanciato ma neanche e quindi quando c'hai un muro con sette gradivi di verdice gialla penso che questa è una delle prossime cose che potrei giocare appena adesso finisco sette gradivi di verdice gialla ci vuole mezz'ora perché le fanno cioè di gente che non è pratica di come si fa un open world allora in chat non so se lo vuoi sapere Vito ma molti stanno dicendo che non ti preoccupare è così per 60 ore no però vorrei sapere onestamente poi il gioco può essere bellissimo lo ripeto perché vi è piaciuta sta cosa a chi è piaciuta magari non è piaciuta tu certo allora sì 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 a chi è piaciuta c'è anche gente che è piaciuta il gioco e sta roba non gli dà fastidio che per me non è proprio invece accettato ok sì che poi può essere magari esatto allora Arius dice a me l'open world ha fatto cagare Punkboot dice entra in gioco la suefazione al dolore cioè poi non gli sta facendo bene giocarlo insieme a Persona 3 che invece quello che fa lo fa senza rotture di scatole di contorno poi è chiaro che se non ti piace la parte ghiacchierata è tra noi però se è la parte ghiacchierata è gioco andare invece da uno a riconsegnare una missione non è gioco e ti dirò una roba che potrebbe essere figa alla Oblivion cioè quello che vedi nel mondo è talmente figo che ti fa piacere proprio scoprire una struttura e dire me la vado a vedere ma non ci fa niente perché la struttura fighissima che ho visitato io era trova anzi due trova tre screen qua dentro basta non c'è niente è tutto vuoto è tutto banalizzato ed è ci sono una serie di minigiochi quando scopri una roba che trovi un sasso lo rompi lui fa una scia la segui quando arrivi là c'è un minigioco in cui devi la roba più carina in realtà è quello del piccione rosso che è brutto in cui devi premere tre volte il tasto al momento giusto l'hai fatto una volta ok l'ho fatto la seconda volta l'ho fatto la terza io voglio ucciderti perché quella roba non è gameplay non è schiacciare quella roba sempre allo stesso modo divertimento per me quindi sarà molto importante ma per decidere se avrò voglia di finirlo sto gioco cioè la mia impressione a Love World che non mi aspettavo mai così tra l'altro io ho adorato il remake per formula stretta corridoio cassettini ma là non c'era niente che ti dava fastidio Vito di ste cose perché lo sai che è un po' di ste robe qua che dici che sottolinei che ti hanno fatto un po' soffrire nelle prime nove ore qua tipo la roba lenta che sa mi ricordo del Robin remake l'ho fatto di recente c'è una parte per esempio dove all'interno del palazzo Shinra che si deve recuperare una chiave da una parte c'è controlli tifa che deve fare dei salti su delle piattaforme per arrivare a questa cosa e va quello piano sulle piattaforme nettamente però qua lo fai di più essendo nell'open world lo devi fare più spesso più volte continuamente questa è la distanza certo che è lento è fatto in un open world vuoi uccidere c'erano quelle parti dove red 13 era l'unico che poteva saltare su delle pareti per andare a recuperare una chiave e te la portava e allora là tu ti metti cloud o tifa a seconda della parte o iris non mi ricordo che c'erano divisi i gruppi in due comunque il capogruppo di uno dei gruppi si mette su una piattaforma precisa indicata con le frecce in avanti che ci sono anche adesso esatto ti devi mettere la preciso la preciso aspetta un po' inquadratura red 13 salta sulla roba devi solo aspettare questa scena devi solo aspettare e questa cosa succedeva continuamente non erano i chiavi dice Scef andava a premere la leva è una roba del G i ciocobo sono fatti per velocizzare però ogni tanto trovano della roba che annusano quindi tu devi metterti ad annusare premendo un tasto lui annusa se indevini la direzione dice il punto poi devi andare là e poi se becchi nel punto esatto in cui c'è quella roba che ce l'ha un po' di margine prendi l'oggetto trovato ma a volte si sposta mezzo centimetro e lui becca a vuoto e quindi devi rifare la beccata cioè non è divertimento per me mentre la parte di storia sto dicendo già meglio cioè funziona la parte giocata il problema qualcuno dice puoi andare dritto vediamo perché la mia impressione arrivato nell'open world non è che brutto l'open world ma io non ce la faccio a livellare qua dentro per arrivare a giocare la storia questa è stata proprio l'impressione molto più che il final fantasy 16 che non mi è piaciuto ma non ti dava neanche granché fastidio ma ci sono anche dei combattimenti classici di mazzate jrpg belli ma anche nell'open world quella roba funziona un po' di più ci sono anche no classici ci sono quella versione final fantasy 7 remake cioè no no classic scusa mi intendo combattimenti con i mostri no 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 quelli li fai cioè stanno piccolini ci sanno che ti devi impegnare di più ci sono delle cacce in cui devi provare a prendere i requisiti secondo me quella parte funziona è bella il problema è quanto dell'open world sarò obbligato a fare per arrivare a fare invece la storia che mi piace dove c'è un ritmo migliore di combattimento anche con gli nemici normali non solo col boss enorme nell'open world è tutto smarmellato tra fai una cosa proprio le attività da inizio di gioco Ubisoft c'è presente il primo Assassin's Creed faccio la torre poi faccio il giornalaglio poi faccio non mi ricordo quel tipo di 6 missioni il medico della peste togli i cartelloni sul muro cioè quella roba anche di diraccia quando devi recuperare e togliere la notorietà quelle robe che fai in sequenza proprio a livello industriale pensate proprio male poi il gioco di carte non l'ho proprio toccato io Darius dice che posso andare avanti allora eh sì su un po' tutti stanno dice pure Gig dice che non serve livellare nell'open world per andare avanti nella storia quindi magari puoi andare avanti nella storia se riesco a farmi quella me lo godo se invece devo sorprendermi quello è capace che non ci arrivo alla fine prova a prenderla così e ti ricordi quando parlavamo del fatto della consegna delle quest in Final Fantasy 16 che c'era tipo devo consegnare aspetta no tu sei già avanti prima devi selezionare inutilmente i tre oggetti che devi dare e le devi ceccare tutte e tre e devi fare conferma che sì sono gli oggetti che ti devo dare quando non c'è un cazzo di nessun'altra possibilità e però lo devi fare comunque per forza e poi parte la scena inutile perché non si vedono questi oggetti sono sotto l'inquadratura e lui glieli passa un po' sotto banco quasi perché non si sa se gliele ha passate davvero o no c'è un po' questo inganno devo dire che sai che alcune robe da menu qua mi sembrano addirittura buone cioè ci sono delle scorciatoie per farti vedere delle cose una roba insopportabile però è che quando schiacci il tasto start ci mette 20 minuti c'è una roba lentissima per andare nel menu è proprio lento no veramente eh no 20 minuti ma no è chiaro però c'è quella frazione di secondo di troppo che a me infastidisce molto è proprio lento mi ha spiegato pure un milione di cose c'ho miliardi di menu devo anche capirlo cioè il combattimento mi sembra anche un po' diverso mi sembra centrato molto più sull'attibilità sinergica per esempio quindi vediamolo Vito ora te lo devo chiedere secondo te a cosa è dovuto il successo dove per successo intendo anche le grandi aspettative il grande entusiasmo generato da da questo da FNAF 7 Rebirth ne ha avuto tanto anche critica anche grande successo di critica secondo me secondo te a cosa è dovuto oppure ti ci trovi non ti ci trovi vabbè adesso è presto non ti esprima però insomma io ho letto solo i boxini per questo dico non me la prendo con i critici perché leggi il boxino magari in quel boxino non vai a far venire meglio di più la parte che ti ha entusiasmato ci sta non dire però l'home award è la merda però me l'aspettavo che mi venisse quell'informazione a me quando ho letto i boxini delle recensioni come fai tu più o meno certo per me che ci sia questa roba che fa proprio schifo per me deve venire fuori se no non ti ha fatto proprio schifo guardi io non ho avuto dubbi sul notare che molti si sono lamentati del finale bravo anche a me quello è arrivato quello arriva quello se quindi è un aspetto tu dici micchia però quindi gli aspetti negativi arrivano pure nei boxini perché quello era anche nei boxini però magari vuoi dare risalto più a quello che all'open world per me invece questo è un è più importante questo visto che della trama è giusto per me il fatto che una parte del gioco sia vecchia di vent'anni su un gioco di questa portata non è parziale cioè se The Last of Us fa sta roba qua io mi strappo i capelli capisci stiamo parlando di un gioco che dovrebbe portare il genere ad un altro livello e per me va a scopiazzare una roba male che fondamentalmente la gran parte di noi ci si è pure stufata allora specifichiamo Vito che torneremo a parlare magari quando l'abbiamo finito sia io che te magari me lo gioco pure io ce ne parliamo con adesso sono diciamo più prime impressioni da parte di Vito che ci ha giocato 8-9 ore c'è una domanda di MTTBFF che dice se fosse Final Fantasy 17 cioè un gioco completamente inedito nella serie con personaggi nuovi non conosciuti cosa ne staresti pensando peggio o meglio? beh per me la domanda è proprio facile per me è uguale perché non lo sto giudicando non c'ho sta passione per Final Fantasy 7 da dire mi piacciono i personaggi allora è bello anzi quella roba secondo me in queste prime ore non è ancora venuta proprio fuori la parte introduttiva veniva era una domanda giusta per il remake dove secondo me quella parte usciva fuori c'era un po' di ricordo c'erano i stessi luoghi andavi a rivisitare in questo per me il remake senza quello diventa quasi un gioco non dico insensato ma molto strano eh però la parte di combattimento a me aveva divertito quella è bella la grafica è bella il sonoro è incredibile però cioè tipo che succede in quel gioco perché finisce sì ok un capitolo 1 minchia ma un capitolo 1 ma quale capitolo 1 è così ma nessuno cioè non c'è questo è più di un capitolo 1 questo è un capitolo un gioco diviso proprio in tre parti certo ho capito però esce ma lo puoi fare solo perché appunto è il remake di una roba già conosciuta altrimenti se lo fai da solo non puoi finire una roba così non può mai uscire proprio secondo me quindi in quel caso in questo poi vediamo ah questa cosa delle mappe che ho visto in questo video ti ringrazio per avermelo fatto vedere Ualone mi piace però mi è piaciuta questa roba ti consegna sulla mappa ma contrasta però col fatto che un sacco di gente ti ha detto guarda che è tutto così è la roba ma hanno detto che è peggio che non ho visto il peggio non hanno visto il peggio alcuni hanno detto pure questo sai l'appunto che faccio io invece perché io capisco bene perché sta roba comunque piace ci sono affezionati all'originale vedi bello da vedere è bello cioè l'open world è poco bello secondo me raramente ho visto l'open world così bello la cosa che proprio non capisco è che il mio cervello fa rottura è che magari lo fa subitamente perché potrebbero essere persone diverse nel remake io ho apprezzato il fatto che fosse un corridoio che avesse delle quest scatolate numero 1 2 3 su sta zona non lo fai mi piace la prendo come punto super positivo esce una roba completamente opposta come questo e ti dico non mi piace ora esisteranno persone a cui piacciono entrambe le cose però devono anche esistere delle persone al contrario cioè che hanno detestato quella roba nel remake e che questa gli piace perché tutti hanno amato quella roba nel remake e oggi gli piace pure questa non vi può sempre piace tutto e l'opposto di tutto perché siete appassionati ai personaggi l'open world di questo gioco non diventa bello perché la trama vi piace e so bella il gioco principale no c'è un gioco principale figo come ve lo sto raccontando io c'è un open world che è obiettivamente inguardabile ma proprio offensivo con delle scelte di design superate antiche pasticciate il cuscino che poi ti crei da solo cioè dopo tre secondi tu impari a fare il cuscino e non è più un problema perché costa una cazzata della roba che trovi per terra ok che serve snellisci le formule sono altri secondi di vita perché tu arrivi là ah ok ti vuoi riposare che vuoi il cuscino sì clic scegli il cuscino te metti seduto no no seno blade per parlare di un gioco giapponese capisce che nell'open world non devi rompermi le palle devi farmi divertire a combattere quindi finisce il combattimento ti ricarica vita sp perché tu ti fai il successivo qua invece devi stare a preoccuparti di andare a una panchina per riprenderti vita sp quindi l'open world è fatta anche un sacco di viaggi rapidi per sta stupidaggine ed è sciocco perché è superata perché c'è già stato il xenoblade non è che il xenoblade arriva domani fa cosa meglio e dice annaggia ci potremmo pensare a noi sono usciti 18 dei xenoblade che la fanno meglio sta cosa allora sulla questione lo sai il fatto non vi può piacere quello e quest'altro dipende un po' secondo me c'è sempre quella percezione di ho sentito parlare bene sia di questo che di questo magari sono persone diverse che lo fanno oppure hanno delle motivazioni per esempio Crystal Beat attenzione dice a me è piaciuto il remake e sta piacendo anche Rebirth sono d'accordo molto però sul discorso che l'open world è un po' messo tanto per allungare il brodo anche perché alla fine anche Rebirth è molto lineare per come è costruito ok The Mix dice per me la trama di Rebirth ha omissioni e semplificazioni abbastanza matte soprattutto a fronte del fatto che un terzo dell'opera dura come tutta l'opera originale poi odio per le sezioni dove si viene costretti a usare un certo party decisamente troppe poi l'open world l'ho trovato molto sfizioso e quindi parere opposto ma capisco anche l'osservazione di Vito è vero che le animazioni sono lente 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 sentiamo Aquana che è super fan di tutto ciò che è Final Fantasy 7 Rebirth mi sa che l'è piaciuto tantissimo io penso che alcuni elementi delle mappe aperte dall'abuso di minigiochi alla superficialità di alcune side quest potessero facilmente essere migliorate per essere rese più stimolanti e il sistema d'affetto pure mi ha lasciato un grosso senso di boh avrei preferito fosse più lineare come remake appunto ma con il divertimento delle battaglie e dell'esplorazione libera tra un grosso pezzo di trama e l'altro allora ci sono delle allora intanto c'è speranza Vito perché no perché sto leggendo dei commenti di persone a cui fondamentalmente è piaciuto o sta piacendo che sono d'accordo con te sulle robe che hai sottolineato che ti cagano un po' il cazzo quindi secondo me ci sta che alla lunga potrebbe pure piacerti per altri motivi io adesso non sto schifando queste cose certo è bello parlare pure di questo il remake l'ho trovato bello però veramente allungato in certi punti dice Jack Ryden alcuni punti tendeva troppo ad annoiare nettamente la parte metro diciamo era derrizio comunque le torri sono brutte bosca che dice l'open world c'è perché tutti i fan volevano la mappa come l'originale diciamo che le torri potevano evitarle quello sì non lo so l'open world puoi pure metterlo e farlo bene però c'è già metterci una narrativa la The Witcher 3 non è che mi avrebbe fatto schifo invece le subquest sono fatte di fetch quest con troppa narrazione di contorno bosca con scenette di contorno ce n'è una che sto facendo nella prima zona perché la prima zona me la sto facendo un po' di punti perché la sfrutto anche per capire come funziona il combattimento cerco anche di giocare arrivo là c'è una banda di scemi fanno una scemetta sono brutti da vedere perché sono anche molto meno realizzati tecnicamente con attenzione rispetto ai personaggi principali quindi li guardi vedi sto stacco tutti gli NPC sono terribili da vedere secondo me arrivi là loro dicono quattro stupidaggini e poi si espostano e fanno la gaggina non me ne frega in Far Cry vado là ce n'avano posto lo pulisco quindi per me se devi fare quel tipo di gioco devi super snellirlo Far Cry 5 dove ci avevano messo un sacco di roba di contorno di pippe di parlate di rapimenti io penso sia l'unico gioco dove ti rapiscono quattro volte non ne ricordo un altro nella storia in cui ti rapiscono e ti tolgono tutte le armi succede quattro volte in Far Cry 5 per me è una punizione proprio non puoi pensarla sta roba veramente ogni miniboss fa sta cosa non ve lo ricordavo penso terribile la sofferenza quando succede nei giochi comunque si poi Far Cry è tutta gente che parla 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 non serve Far Cry 6 aveva snellito e non è piaciuto perché la formula è stantia ok perché qua non è stantia perché qua è vabbè qua è stantia allo stesso modo poi forse la puoi ignorare e vai avanti però voglio capire quanto dovrò soffrire andando avanti se non faccio robe qua e se vado avanti e non soffro vuol dire pure che sta roba qua non serve nella storia ragazzi perché le cose sono due o me la metti che ha un'utilità per farmi crescere e quindi ha comunque un fascino per me per la crescita anche se è orribile da fare oppure è messa solo per fare stupidaggini intorno se io il gioco finisco a norma senza doverle fare le cose vanno in contrasto senti questa cosa Vito dimmi che ne pensi di questo al di là della parte che è giocato di Rebirth anche in generale proprio è una roba che può succedere in alcuni grpg sicuramente può succedere pure in final fantasy 7 remake aquana dice le side quests non sono chissà che aspetta che sta scorrendo la chat non sono chissà quanto interessanti anche perché c'è un grosso problema oh ma che riesco a bloccare ecco qua l'interazione è sempre tra cloud e un singolo personaggio il clay esclude l'interazione tra i membri del party al di fuori delle cutscene di trama aggiungo pure che quando ogni dialogo è opzionale tu mi stai sostanzialmente dicendo che non fa alcuna differenza cosa scelgo e in un gioco che si basa soprattutto sui rapporti tra esseri umani è una cosa un po' con me oggi che abbiamo una marea di robe su che ne so penso l'anno scorso è uscito Baldur's Gate 3 per esempio noi non ci abbiamo giocato però per dire comunque c'è un sacco di giochi che puntano moltissimo proprio su questo tipo di aspetti tu lo noti che in allora io ce l'ho un po' la sensazione se penso per esempio allora Final Fantasy X c'era meno incoerenza con il fatto che tu non avevi il party di personaggi che si muove insieme e poi uno solo fa certe cose questa è una roba tra l'altro super classica di molti JRPG che oggi esteticamente si è un po' risolta un tempo era anche che tipo siamo fermi e ci sono i dialoghi le robe escono le altre persone escono dal mio corpo ed esistono dobbiamo camminare tutti nel mio corpo cioè nel corpo di Cloud metti e solo Cloud cammina ancora un po' una parte di questa rimane nelle cose che dice Aquana cioè nel senso che comunque c'è l'interazione tra un personaggio e i personaggi non giocanti che comunque effettivamente è un po' una roba no ti dico per me il problema è quando succede tipo 8 per Traveler in cui veramente la narrazione era in contrasto con quello che vedevi tipo tu avevi il party che era da 8 o si da 8 non mi ricordo se era 4 8 insomma 8 personaggi forse il party era da 4 ma quello che succedeva era pensato come se fossi 1 e quindi c'era la storia andava avanti con te che ti nascondevi sotto una carrozza perché sei 1 sotto una carrozza ma i personaggi erano 4 e la roba non ha senso se lo fanno in 4 io accetto che ne vedo 1 e sono 4 ma non puoi mettermi 1 sotto una carrozza e sono 4 perché in 4 non ci vanno sotto una carrozza non funziona questa cosa in 8 per Traveler era così e lo stesso funziona succede in Starfield dove il personaggio d'accompagnamento non segue la narrazione della storia a volte quindi c'era una in cui io stavo dentro una base spaziale era tutto infiltrato dovevo mettere costume perché se no non mi facevano entrare quello di El era vestito uguale e passava nessuno gli parlava nessuno diceva niente questa roba è brutta proprio sì sì è una roba quasi da dire immaginati che sia così no perché te la immagini va bene là non te la stai immaginando là la stai vedendo cioè quello non si è dovuto vestire come te quindi devi trovare una spiegazione se non trovi la spiegazione stai raccontando male una storia cioè non puoi inventare la capisci è a vista c'è quel personaggio c'è perché la guardia non gli parla perché hai sbagliato quindi inventati che finisce in un braccialetto che te lo nasconde non puoi non puoi dire che non devi inventare lì non c'è è a vista ed è sbagliato allora Crystal Beat è quello che tra chi ha scritto in chat mi sembra uno di quelli più positivi proprio anche proprio sulla parte open world del gioco infatti dice mi piace cioè su di me funziona per due motivi dice in realtà primo le ricompense si intrecciano molto bene nel gameplay loop secondo le checklist per gli obiettivi sono fatte molto bene ogni cosa dell'open world viene tracciata con una bella interfaccia animata per le ricompense mi fa venire voglia di fare tutto e io non ho mai platinato millato un gioco ma a crystal beat ti piace ti piace la roba ubisoft pure perché anche a livello proprio di interfaccia di io ti chiedo un'altra cosa di precisione nelle liste nelle robe molto bene quella roba dell'interfaccia la domanda che faccio a crystal beat a prescindere da quanto ti viene voglia di fare tutto ti diverti a fare quello che ti chiede di fare e beh sì ma sembrerebbe di sì no l'idea di completamento secondo me sì può essere può essere certo può essere qualcuno mi chiedeva ma se non è che far cry è stantia perché è il settimo episodio no la formula è stantia in generale cioè se oggi la fa The Last of Us io non è che dico che è brutto perdo la testa se The Last of Us prova a fare un open world in questo modo e che a Final Fantasy gli date delle possibilità che non date a Ubisoft banalmente perché siete più affezionati perché vi piace più il mondo e invece banalmente quello che dovrebbe essere centrale è quanto vi divertite a fare quello che vi fanno fare quanto è divertente fare la missione del segui l'uccello rosso zero quanto è divertente pulire un avamposto in Far Cry per qualcuno zero per me è divertente perché quanto ti diverti a sparare non è quanto le volte lo fai ce lo faccio l'avamposto è diverso dai nemici è sempre divertente è esattamente come il tizio che si diverte a giocare Fortnite che gioca sempre quella roba cambia la struttura ed è comunque divertente per lui però deve essere divertente quello che sto facendo per me mentre là non vi dà fastidio l'idea di completamento perché il mondo vi sta bene ma quello che sto facendo è cento volte peggio anche Final Fantasy aveva altri canoni Bosca scusa non ce li ha adesso come fai a non avere altri del lastopase si Final Fantasy li inventa in questo gioco questi canoni di merda scusami dove erano prima non ci sono neanche nel remake non ti incazzare chilometri prendendo un ciocobo tanto pure la parte del ciocobo non vorrei essermi perso un pezzo di spiegazione è possibile però secondo me è spiegata male perché lui dice vai a prendere quello te lo regalo e poi però ce lo prendono tutti e quattro i personaggi quando chiami il ciocobo allora Mr. Simon condivide il malumore di Vito Fra Bix dice che con Ubisoft effettivamente mi pare sempre si sia ipercritici su cose che però fanno anche altri e io al di là della questione Ubisoft cioè tipo gente contro Ubisoft secondo me c'è grande affetto per Final Fantasy per Final Fantasy 7 in particolare quindi magari funziona anche per questo si accetta di più Final Fantasy 16 se lo giudichi fuori da Final Fantasy non è un gioco quasi tollerabile sotto tanti punti di vista ma non è neanche sai non è neanche tanto si accetta tipo è raccomandato è proprio che secondo me la gente è felice di stare con questi personaggi di fare queste cose cioè secondo me succede proprio in modo spontaneo questo nel 7 nel 16 qual è la felicità ma il 16 ha avuto molte più critiche secondo me guarda che sono arrivate dopo col tempo le critiche non c'è stato in questa prima parte questo grande approccio molto io però la mia percezione è sul 7 sul 7 il 7 è chiaramente una roba d'affetto di questi personaggi ma magari è anche bello il gioco non lo sto escludendo magari è anche bello il gioco togli la sozzeria di contorno rimane bello sono il primo che ti dice oh ma se non mi hai obbligato a farla e loro mi stanno dicendo che non ti obbliga stica c'è per i scappari di casa come Crystal Beat che ci si divertono che ci hanno voglia di stare in quel mondo non ti offendere Crystal Beat però io posso ignorarla cioè che me ne frega se invece la parte è dritta però secondo me è un concetto sbagliato dell'open world oh Clogard pure non prova fastidio ed è a 120 ore 120 ore Aquana dice ogni volta che prendi un ciocobo lo prendono tutti i pg di default questo per tornare alla questione di come funzionava la cosa di eh no aspetta dov'è scritto voglio leggerlo ogni volta che prendi un ciocobo lo prendono tutti i pg di default no questa cosa l'ho capita si è che non è spiegata secondo me a livello narrativo lui ti dice vai a archiappare quel ciocobo che diventa tuo te lo regalo è uno io ne vado a chiappare uno e uno gli altri che gli altri prendono di default chi li sta pagando so io che c'ho i soldi c'ho la cassa ce l'ho io dei personaggi non ho pagato per gli altri a meno che mi sono perso una linea di dialogo in cui dice guarda vi regalo anche gli altri per gli altri si si no sono d'accordo tutti Bosca Aquana ok io non l'ho fatta sta roba quindi non potevo capire ah manca proprio un pezzo si si ok però The Mix dice vabbè però Vito questa è una mincata no lo sto dicendo no no ma infatti secondo me ci sta lo dicevamo sulla cosa prima di narrativa cioè manca un pezzo per me alla fine nel complesso comunque è una roba a cui ho fatto caso mi stai spiegando il motivo per cui la torre è messa in quel posto perché c'è il bottone perché l'attrezzo si chiama ginello non ti dimenticare questa cosa bastava una linea di dialogo ragazzi non è che manca è chiaro che era stupidaggine però il tizio che mi ha regalato il ciocopo diceva sai che c'è siete morti le fame mi regalo gli altri tre finito risolto il problema narrativo è sempre facile sì oppure dici il prezzo di questo ve ne do quattro eh però magari quella devi pagare ogni volta li devi comprare devi spendere soldi non mi vuoi far spendere soldi o gli altri ce li hanno allora come regia grafica un po' peggiorata dice Aquana chiaramente perché è un open e ci sta però a me piacevano tantissimo le cutscene della parte 1 per te com'è fino in questo primo siamo a quei livelli per la prima parte posso darle anche ragione però non ho visto pochissimo la prima parte secondo me non è non è non è un capolavoro per come è messa anche di regia per esempio ti fa fare una scena tra le fiamme che doveva essere super memorabile perché comunque c'è la parte con la madre e la fai col personaggio super lento fiacco proprio che palle giocarla quando una bella cazzina avrebbe risolto meglio il problema quindi al momento non ho visto una roba capolavoro io ricordo veramente lo finisci o non lo finisci secondo te guarda devo capire se posso tirare dritto perché l'open world così non me lo gioco lo so già cioè per me questa è veramente troppo 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 oltre sotto i miei limiti secondo me devi proprio provare ad andare dritto invece perché magari ti piace veramente così è vero perché a un certo punto ho fatto un po' di missione in questo open world per vederlo a un certo punto dico vabbè provo ad andare avanti e mi sono preso un bel combattimento adesso sono lì in quella parte più avanti vediamo però secondo me se vado avanti senza problemi c'è un problema strutturale cioè devo capire che vuol dire per loro senza problemi se per me è c'è anche un'altra opzione cioè posso abbassare ad easy e non farmare mi vedo la storia potrebbe essere ma difficilmente comunque ci sta giocando un sacco di gente un sacco di gente sta scrivendo in chat ci sta giocando ci sta giocando un sacco di gente definisci mini giochi bosca adesso ce n'è uno che mi è piaciuto quello del titano in cui c'è una ruota in cui all'inizio ti fa vedere dove sono i simboli poi li toglie e devi memorizzarli quello secondo me anche rifarlo varie volte è carino quello dei moguri è una roba che voglio chiamare la polizia come hai fatto a ricordarti il nome posso sbagliare una volta ma poi basta mai più è bello comunque moguri 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 eccetera è la cosa che preferisco è troppo bella è la roba più bella il cambio di nome dei fatti che non c'entra più con la pronuncia è proprio l'invenzione lei è proprio sì è tipo caibano questo è il caibano è come il caibano i moguri sono pessimi dice Crystal Beat molte di queste cose sembrano uscite da Kingdom Hearts sto vedendo un po' di mini giochi ve lo dirò ragazzi non ne ho visti fino adesso sono un po' deluso dalla parte esplorativa dello che vuole perché invece secondo me c'era margine per farci qualcosa è veramente bello da vedere invece là è proprio banale prendi tre scrigni è finito là nella terza parte si chiameranno Mogoret permettimi ma la ruota delle evocazioni è veramente un QTE stupido io non parlo di che stiamo parlando quello che dico io quello del titano quella che hai citato tu dice è un QTE in cui ti tolgono i simboli devi memorizzarli non ho detto che è la roba più bella graficamente ho detto che è meglio delle altre sette porcate che ho fatto cioè devi avere un po' di memoria e farlo quando vado a quello dell'uccello schiaccia triangolo schiaccia triangolo schiaccia triangolo cioè sto parlando di quello non ne ho visti i minigiochi sto parlando di quelle cose ho capito che era il minicioco Bosca t'ho capito non li ho visti allora no comunque Vito poi dobbiamo parlare pure un po' della trama quando magari ci giochiamo per esempio Aquana dice che è la cosa che le è piaciuta tanto poi sul resto magari poteva pure divertirsi di più però sulla trama è proprio presissima invece là pure c'è roba io so che sappiamo i Gigor e altri che sono quasi in protesta totale però per l'ultimo capitolo ha detto tutto il resto era buono sì 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 però proprio le carte non ci gioco manco se mi pagano Bosca dovete morire voi tutti e giochi carte dentro i giochi è una roba che mi toglie ma tu fai un sacco di giochi di carte a parte quello tipo vabbè come si chiama un sacco no Balatro Capolavoro 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 perciò non ho perso una partita a Valone ho rischiato di perdere i sentimenti proprio avevo una combinazione fantastica che poteva camminare molto ho perso di pochissimi punti perché è arrivato un boss super difficile quel finale che chiedeva un sacco di punti più quindi in un momento anticipato chiedeva tanto e ci sono andato comunque a un passo e ho fatto pure un errore io dicendo vabbè ma so liscio prendo questa mossa con meno punti che me ne frega cioè quando ho sbagliato ho visto che mancavano tipo otto punti dico funziona c'è un sacco di possibilità è sempre molto bello c'è anche una possibilità che io non avevo considerato ma stai giocando con questo gioco finisce c'è una specie di campagna ce l'ha sempre è un solitario quindi c'è la possibilità di finirlo o non finirlo a otto round diciamo ah no finisce la partita ho capito finisce la partita però io adesso vorrei sbloccare la modalità sfida non c'è una campagna no 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 è proprio un solitario un solitario devi giocare le partite poi puoi andare avanti anche all'infinito questo a te piace un sacco c'è la modalità sfida che sblocchi se finisci il gioco con tot mazzi i mazzi hanno dei bonus malus all'inizio sto provando a fare quello perché comunque la partita la creazione della partita è sempre bella e ho scoperto cioè ho scoperto ho capito che puoi fare una cosa in più che io avevo un po' sottovalutato cioè modificare tanto il mazzo delle carte però secondo me è tanto più difficile rispetto a fare le altre cose però tu per esempio puoi fare un mazzo di soli assi ti faccio un esempio esagerato e a quel punto il poker non è un problema capisci? e quindi puoi giocare i bonus sui poker che sono molto più alti però riuscire a portare avanti una bella campagna di bonus visto che è basato anche molto sulla fortuna più le carte più gli arcani e altre care robe non è facile però è una possibilità che per esempio all'inizio non avevo troppo toccato cioè c'è tanto margine questo gioco quindi la creazione della partita è sempre molto diversa è sempre molto in divenire funziona proprio da dio un gioco veramente semplice semplice ma bellissimo poi sì il poker sparisce più vai avanti nei round più il poker sparisce sì ok è più una roba di capire bene i meccanismi di potenziamento che ti possono servire e sfruttare quelli attenzione The Mixon mi dice una cosa che sto piangendo sono quasi obbligatorie per una parte della storia le carte io non ho fatto neanche il tutorial però quasi obbligatorie bisogna capire pure che significa sotto scrive forse obbligatorie io non ho fatto il tutorial non so come si gioca a quel gioco di carte ragazzi non esiste proprio dai allora no attenzione arriva Aquana dice che non sembra sia no allora sei dei fake news del cazzo dai non lo sono anche per te magari ti voleva spaventare The Mixon ah no ma abbiamo proprio il dubbio io lo so che fa gli è venuto il dubbio dice oh a me sembrava un po' una roba così e dice adesso glielo dico così si caga ma te rendi conto faccio 45 ore di gioco adesso per andare avanti devi fare una partita a questo gioco di carte e io non so neanche come funziona no non li ho mai sopportati all'interno dei giochi mai 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 tu li hai giocati i giochi di carte sì allora fammi pensare un po' il Gwent però non mi piaceva infatti quando è uscito proprio il gioco Gwent comunque non non è il mio tipo di gioco di carte collezionabili però dentro The Witcher 3 un po' ci giocavo cercavo di capire ho fatto e non mi è piaciuto qualche altra roba famosa che c'è ah sai che in Forbidden West c'è c'è quello più miniature diciamo non ho fatto il tutorial quello lì pure lo schippavo c'era una missione all'inizio quello mi sembrava bello però mi serviva farmare mi servivano i punti in Forbidden West comunque non ho fatto quello del di mi gioco dentro Bosca dice che fa cagare io comunque nel dubbio l'ho schippato adesso stiamo ascoltando Bosca veramente no mai siamo a questo livello no 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 ripetiamo quello che dice ma senza ascoltare è una partita alla grande con Falcone oggi adesso non è che possiamo fare Bosca anche se siamo uniti in questo momento Bosca abbiamo un nemico comune ora chi è? Fanno Fancy 7 l'Europa League l'Europa League che è? c'è Roma Milan ah beh c'è Roma anche con Fabio Volante con tutta la nostra splendida community di milanisti ah peccato però Roma Milan non è buonissimo invece secondo me per il fatto di prendere i punti per il quinto posto ma che cazzo la Roma deve sempre uscire secondo te fuori la Roma la Roma dovrebbe vincere l'Europa League così ci dai punti alle squadre italiane per il quinto posto è proprio quello sto sperando secondo me dobbiamo proprio chiedere alla UEFA che ci dia punti se la Roma esce al primo tutto così la gufiamo tutti allora vi notate il set lego di Dungeons & Dragons domande serie finalmente da Venez no Venez non lo prenderò oi e che è sta cosa? beh mica prendo tutto buonone eh vabbè ma questo lego Dungeons & Dragons ci sono due annunci il set è una serie di minifigure che è già liccata che non farla vedere perché magari si incazza lego io lo faccio ma te non lo so ma c'è scusa ma è questo c'è uno che fa la recensione che vuol dire? ce l'ha già esistito è possibile eh sì succede è per questo che rosico un botto questo qua sarebbe? sì che è molto più brutto del progetto originale questo dice Raviuma vediamo come cioè se o se ne parla nel senso sulle immagini e lui lo recensisce no vabbè questo sembrava a casa sua no sembrava quella roba che scaffale è sua beh ma succede eh tanto è scelta non è rosico non è rosico ho provato a fare la stessa cosa l'influenza più importante al mondo non lo sono però ho provato a fare quella stessa cosa cioè dire come faccio a crescere se voi date sempre la roba prima là cioè io volevo pagare però magari anche loro a chi l'hai detto questo a Lego ho provato a parlare con Lego Store che mi ha rimbalzato dicendo proprio come faccio a crescere no no perché loro dicono a me che cazzo mi serve io voglio pagare i set sì gli ho detto voglio pagare i set però avendoli prima con una data d'embargo perché c'ho cioè vorrei farlo ma ti immagini questo dialogo ecco tra te che uno ti risponde e dice ma scusa ma precisamente ma dove sarebbe la parte in cui me ne dovrebbe fregare un cazzo intanto un sacco di gente che segue i video di umana ha cominciato a spendere soldi in Lego è ovvio però sarebbe bellissimo è molto bello fatto da altri magari prendiamo un esempio in cui lo fanno a falconero ecco non a me falconero dice basta i videogiochi vado da Lego e la Lego risponde succhia però no è un set che non mi interessa perché non mi interessa troppo l'IP forse le minifigure potrei prendere il set non è brutto la gente ah perché non sai non c'è il friccico rio di oh che bello la roba di Dungeons and Dragons no proprio per niente vabbè ci sta poi non mi piace neanche la tipologia di set a diorama non è troppo l'arama a me piacciono le robe che sono oggetti fondamentalmente quindi non ha proprio fascinazione su di me no poi ho fatto le statistiche persone ma è bello questo sembra è perché c'è pure una missione di gioco interna di fare lo vedo ma hai sbagliato questo è l'unico a cui dovevi interessare non ho mai giocato due volte che ho provato a giocare RPG già non ti hanno tutti sconsigliato Baldur's Gate 3 e secondo me questa cosa pure ci possiamo riflettere un po' secondo me invece dovresti prendere ci provavi se tipo a un certo punto lo trovi scontato così non ti viene potrei provarlo gratuitamente liberia condivisa non l'ho fatto no volevo farlo se state poi è passato il momento vabbè con quando perché c'entra in qualunque momento può essere quello buono magari ti piace adesso sono pieno di roba che mi piace magari è il tuo gioco preferito è la prima volta nella mia vita con un backlog non vado in questo momento su Baldur's Gate stavo parlando di Lego però non interrompe sulle cose serie ma in Dungeons & Dragons c'è un collegamento importante no ci frega un cazzo allora Lego dicevo avevo un file in cui mi segnavo quanto spendo l'ho buttato non lo tengo più non lo aggiorno più e l'ho cestinato però mi sono fatto una lista di quanto dovrei spendere nel 2024 dei set che mi interessano sulla carta poi magari sono brutti e non li compro succede però minchia è un botto non è un problema ma potresti abbandonare tutto Lego secondo te a un certo punto a un certo punto può succedere ma proprio tipo basta oh basta e magari la vita è anche migliore pensi potrebbe essere anche questo migliore peggiore chi lo sa magari momenti la mia vita è fatta anche di fasi c'è stato il momento ma anche ero innamorato il drago fa cagare era molto bello c'era il progetto originale che era più figo era proprio bello perché questo esce da un Lego EDS a un concorso in cui devono presentare le loro proposte e ha vinto questa che hanno modificato di brutto guarda la coda puoi fare così metti di fare lo scemo è escire tanta roba super figa tra qui la Mona Lisa e la Super K quest'anno mi esce la Super K è carino secondo me non è un brutto set non d'accordo Vito dovresti provare a dipingere miniature secondo me ti potrebbe piacere dice Davide Ferraro Gomba lo escludo nel modo più assoluto perché io spacco le cose con le mani sono a parte non sono precise non ci vedo quindi c'è due cose che non vanno a farlo ho anche questo super potere che io apro le cose e le rompo proprio con le mani non ho percezione della forza quindi io sono troppo debole appena spingo un po' spacco mi è successo un sacco di volte di rompere le robe mentre le apro dalla scatola che mi sono arrivate non mi ricordo che ho rotto l'altro giorno ad esempio mi succede quindi devo assolutamente non farlo ma i Lego per me funzionano proprio perché non sono rompibili cioè quella roba funziona a me mi piace un sacco fare quelli ti manca un videogioco di Hulk Vito ma che domanda sei il coglionito sì o no ma non mi abbassare il livello di questa puntata fantastica la puntata veramente ma ci vuole anche questo ma scusa ma poi che problema c'è di no non mi manca perché non hai una domanda subito e te lo devo dire e rispetto negli amici bisogna dirle le cose non devi fingere la domanda è ti manca un videogioco di Hulk e io devo rispondere seriamente che cazzo parliamo di altro che sarà successo qualcosa oggi abbiamo 20 minuti dai poi si cammina no certo certo ma scusa ma perché ma allora ci sono scusa ti faccio una domanda questa qua ci sono delle licenze o delle robe nei videogiochi che ti possono dare delle emozioni un po' a prescindere ti influenzano un po' e dici no ma questo voglio giocare perché è Hulk per esempio non sarà Hulk ma magari qualcun altro qualcun altro sicuramente c'è però ci devo prendere ma perché può Hulk non ti piace Hulk il personaggio non tanto non ti senti legato a Hulk vuoi parlare di Marvel parliamo di Marvel ho cominciato a vedere la serie X-Men no non voglio voglio parlare veramente dei videogiochi sul licenza giocherete a top spin dopo 13 anni la domanda di Ciannino è migliore ma perché i videogiochi sul licenza non ti vanno cioè tipo la roba di Dungeons & Dragons mi ha fatto in mente queste cose no non mi interessa dovevo pensare alla licenza ci devo pensare però ah non lo so potrebbe non esserci potrebbe esserci potrebbe esserci non mi viene in mente tipo comunque però la domanda di Ciannino è più bella qual è la domanda di Ciannino giocherete a top spin dopo 13 anni è uguale questa domanda è proprio identica no è uguale può essere più bella perché magari ti interessa la risposta ma è uguale qual è la domanda più bella giocherete a top spin o poi un videogioco su Hulk è uguale proprio scusa è proprio uguale un gioco su Scraps no dai una roba seria che ci viene in mente no no top spin parla di top spin certo guarda una roba che ti piacerebbe sarebbe un bel gioco su Ciannino il guerriero ah vedi questa è la licenza che ti avrei giocato i quelli di il coeio Omega Force i muso no ho giocato lo yakuza diciamo quello che veniva dai lo yakuza e in giapponese era incomprensibile e muso tra l'altro l'ho giocato con Farenz perché lui conosce Ciannino il guerriero e quindi lui le due ore mi doveva spiegare un po' la lord di Ciannino il guerriero solo che era in giapponese ci siamo impallati siamo stati due ore dentro un punto fisso e quindi Gigor propone un bel gioco di Hulk che gioca a tennis allora andiamo a tennis tanto c'è un gioco di calcio top spin top spin c'ho super voglia sono abbastanza scimmia non tutto quello che ho visto mi affascina completamente perché ci ho visto un po' anche di sporcheria di sporcizia nelle partite in singolo però sono curioso di vederlo speriamo che sia uscito bene a livello di licenze non hanno fatto il top del top dei top però sti cavoli arriverà se va bene questo poi migliorerà il futuro sì poi magari è divertente da giochicchiare tu tu ci giocavi io top spin uno per xbox uno ci ho giocato un sacco spinto dalla voglia di xbox live di giocare anche mi è andata così più o meno un sacco forse no però all'epoca provavo tutto online ho giocato anche a top spin solo che era uno che se giocavi con qualcuno che poco poco era bravo ti asfaltava proprio perché giocavano solo io giocavo con gli amici e mi asfaltavano lo stesso però almeno ce lo sapevo già anch'io però era gente che si allenava e passava le giornate a fare lo stile sai quelli che si fanno e lì è solo serve in bolle era molto efficiente il serve in bolle quindi batteva bene tu su cavi contro ribattura era difficile giocare di video super a sorpresa è stato bellissimo condizioni c'è stato anche un estratto di falco nero a sorpresa una puntata bellissima sì 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 oggi una delle migliori di sempre sicuramente dove però ricordiamolo tutti i di video per la show sono bellissimi comunque si parte da una base di livello altissimo anche solo per la presenza di video uguale quindi figuriamoci le mie giornate passate così tra un tiro a canestro e una partita a top spin dicevo MTT BFF e che è successo? chi è? Fabio Volanti che dice Geoff Keighley allora un paio di settimane fa ho avuto la possibilità di giocare 5 ore di Judas a Boston ha giocato a Judas il nuovo gioco di Ken Levin e Ghost Story Games scusa stanno suonando alla porta si che è stato svelato ai Game Awards del 2022 vediamo chi è alla porta e domani se ne parlerà con una chiacchierata lunga tra DMC Ryan ah Ryan McRuff ex di di IGN ok quindi ci sarà ci aspettiamo chiacchiere in anteprima su Judas molto bene molto bene gioco super interessante vedi bello 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 ottimo 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 magari escono anche gameplay e video dice Fabio Volante certo speriamo speriamo chi era Vito eh chi era Vito chi era era mio cugino mi ha portato un pacco che era arrivato oggi salutiamo il cugino di Vito che ha portato i pacchi tutti ti portano i pacchi a casa ormai allora capito Vito comunque hanno giocato a Judas 5 ore il nuovo gioco di Ken Levine ricordiamo Bioshock e altre cose e domani insieme a Ryan McRuff ex di IGN faranno una lunga chiacchierata in cui ci racconteranno quello che hanno provato e come qualcuno sospettava in chat magari ci sarà anche qualche nuovo trailer un po' di video di gameplay magari ci sono anche delle immagini oh bello dai anteprima di 5 ore si comincia a parlare pure di Judas beh un'anteprima di 5 ore non è impossibile che non arriverà fra 100 anni ecco tra l'altro esatto in genere quando è così potrebbe quando c'è l'anteprima di 5 ore no ma pure anche 2024 sì l'anteprima di 5 ore sì generalmente è qualche mese prima sì però su Giuda mi sembrerebbe un po' poi potrebbe ci sono le eccezioni ci possono essere altri motivi magari viene cioè magari hanno calcolato i tempi in modo diverso però tendenzialmente magari non vuoi scrociarti con GTA hai fatto le corse per arrivare anche prima ma GTA non è l'anno prossimo di sicuro eh dico magari era previsto 2025 marzo sì sai che ma adesso pare pure che GTA abbia problemi però allora ci usciamo prima invece eh magari fai le corse comunque sai che l'anno è libero cioè se arrivi a Natale Natale sembra che Sony non metterà molto sul pacco sul pacco sul piatto mi intendo magari ha rimandato cioè magari ci provi a dire ok mi prendo uno spazio migliore non mi sembra una roba poi dipende a che punto sei ci devi anticipare sei mesi no ma magari il mesetto prima puoi correre crunch e ci provi se vuoi provare a vendere in questo mercato è diventato importante dove ti piace assolutamente poi quando con l'uscita di GTA 6 secondo me un po' tutti non sanno come eh quantomeno quel periodo lo vuoi proprio scappare però secondo me è proprio questo che è buono o magari c'è chi dice no no ma noi ci uniamo perché la gente va più a informarsi sui videogiochi eh se sei una roba top spin per dire perché ne so cioè una roba una cosa che potrebbe essere proprio completamente diversa magari secondo me è difficile comunque a scappare abbiamo visto in passato che da quelli grossi che si prendono l'attenzione molto più dei soldi del giocatore no però è l'attenzione che può portare altri soldi certo certo che devi devi un po' andarti a rossicchiare per dire io capisco perfettamente che Enotria non ci stava bene lo stesso giorno di lancio del DLC quello poteva vedere però magari la spinta diversa però no quello devi fare due mesi dopo fai la spinta diversa avete finito il DLC di Elden Ring bello eh dai che avete ancora voglia giocatevi pure questo ma il giorno stesso ma adesso si sono messi tipo lo stesso giorno tipo è come mettersi l'invisibilità proprio adesso si sono messi insieme a Bukong invece e comunque ah si ah ma c'è eh vabbè ma che cazzo allora è un po' più scelta tua però magari pensano di essere più forte non lo so no però è proprio difficile secondo me quindi sai mi vado a prendere un Natale che è il periodo storicamente dove si spende di più non c'è grande concorrenza un Judas che è una 9P quindi devi anche proporla si fa chiacchierare di più sarebbe sulla carta non un pensiero sciocco ecco poi magari sulla realtà no ah si ma secondo me non proprio nello stesso momento per poter dire ah con Bukong tu dici pure no Judas stavo parlando di più ah no scusa allora non avevo capito no Judas chiacchierare di più perché esce nel periodo di GTA esce a Natale del 2024 Natale sì senza certo no no quello è quello per me è per forza così poi Judas ha proprio bisogno di anche perché io penso che sarà una roba anche che potrebbe avere una certa qualità no cioè che può piacere a livello di impatto narrativo di di stile di gusto quindi secondo me è una roba che è meglio che ti godi un po' che ti prendi un po' più di palcoscenico eh sì esatto ci può stare secondo me sai la nuova IP è sempre difficile da lanciare in queste industrie devi aspettare che qualcuno ne parli se no non si fidi vedi quanto è facile fare Final Fantasy 7 anche con un po' world orribile perché la gente ci ha affezionata a Judas non hai quel margine di perdono che ti danno sì qualcuno diceva che Bukong è più importante di Elden Ring di El C-Mail allora Vito quando è che dobbiamo andare a camminare ci siamo 15 minuti un altro 15 minuti dai hai finito le robe che hai giocato non ho finito niente ah sì sì nel periodo allora parliamo un po' delle altre attività dai cioè come sta andando tutta la ah la stanno andando da Dio sono state due settimane meravigliose come risultati però venivano stati anche un po' dal fatto che ho recuperato quei 4 giorni della febbre quindi ho fatto senza soste 14 giorni di allenamento come è stato pesante eh alla fine sono arrivato un po' stanco e adesso invece questo weekend qua c'hai avuto il riposo due giorni tutti e due di riposo ho fatto gli addominali ho cominciato a fare anche addominali tutte le mattine senti a che stiamo come numero di giorni quanto siamo due mesi più o meno 77 ieri 78 oggi 78 giorni consecutivi di attenzione all'alimentazione con eccezioni nel weekend con qualche eccezione qualche volta in generale ieri è stato domenica sono andato al giapponese ok però non ho ancora toccato pizza non ho ancora toccato birra l'eccezione è sushi per me alcol zero alcol zero importante sono andato anche a cena fuori sono stato bravo perché c'è stato il vino a tavola io ho detto no neanche il brindisi sono stato fuori due volte ho mangiato carne e cicoria quindi passo normale fondamentalmente sì mentre l'oglio giapponese c'ha qualcosa di più di un passo normale perché c'ha delle salsine sopra beh considera sempre che pure le quantità è una roba sì ci sta però è riso con pesce comunque quella roba secondo me impatta relativamente le salsine magari di più su certe cose però ci sta pure che quando voglio uscire non voglio farmi certi travi no no certo ovviamente però dico quando vuoi fare lo sgarro secondo me lo puoi fare pure con ah sì sì lo posso fare non lo voglio fare con la pizza perché incide un sacco sulla bilancia sui quando mangio carboidati a parte che sto segnando tutto adesso e due volte ho mangiato i carboidati una volta che mi ha invitato mia madre a pranzo e una volta che ho mangiato non mi ricordo che sono stato male con la testa male con la testa dopo perché ne avevi ancora voglia e non avendoli più no no male dopo non lo so poi magari è stato anche casuale perché sono male molto con la testa quando cambia il tempo ed è successo entrambe le volte che il giorno cambia il tempo sto cercando di verificare comunque sono passato la passa la prendo a maggio una volta a settimana in bianco passa al farro per me non è un problema quindi però sta andando bene se va avanti così di risultati c'è l'entusiasmo non è proprio un problema perché risultati scusa faccio un riassunto cioè quindi 78 giorni perdita di peso no la pesata è al 76 ed era 17.9 in meno dal giorno zero eh beh direi potente quasi non lo so preoccupante non può essere no perché all'inizio si perde tanto peso è normale probabilmente per quello perché comunque è tanto tanto in due mesi all'inizio è più normale però c'è nelle altre volte qui già cominciavo a scendere non posso ancora tenendomi alto poi io so tanto di peso quindi ci sta che li perdi però devi fare le due ore di sport al giorno se no li perdi con l'alimentazione le due ore di sport fanno tutta la differenza del mondo ci sono state settimane che sono andato meno se continuiamo in ultime settimane ho fatto due chili e un chili e sei fantastico minchia settimane in una settimana è tantissimo anche questo eh sì secondo me sei in una inerzia potente proprio di questo comunque 76 mesi secondo me è una bella resistenza allora domanda importantissima per un tipo di argomento che a me piace un sacco secondo te quale di queste abitudini che stai avendo in questi mesi di di progetto proprio potranno diventare eventualmente fisse l'alimentazione l'alimentazione io non credo di tornare indietro poi magari vado più fuori e mi mangio una pizza sì più sgarri però l'alimentazione base sarà questa ma questo è estrepitoso perché non mi dispiare ma non è diversa dal mediamente la mia alimentazione base io a cena comunque facevo un secondo in contorno la mia madre e non facevo colazione cioè la colazione la metto perché vado in piscina le due fette biscottate con marmellata senza zuccheri diciamo questa roba può rimanere tranquillamente non ho nessuna fame nessuna voglia di sgarrare niente che mi diceva sta roba è mortale per me anzi mi sto a fare certe insalatone che mi piacciono un sacco mi ha dato anche un po' un ritmo sta roba di decidere cosa devo mangiare non mi dispiace per niente le due ore di sport non fanno no beh certo ma quello secondo me è veramente però non mi stanno neanche pensando così tanto perché poi quella di piscina me la faccio alla pausa pranzo però sai cosa è stancante tarsi presto vai al lavoro poi vai in piscina non fai pausa torni al lavoro poi torni a casa mangi cucini e se fatto tardi magari faccio live vai a dormire cioè non riesco proprio più a vedere le giornate è tutto la stessa cosa mi ritrovo sul tapirulano e dico mi sembra ieri un secondo fa che l'ho fatto perché per esempio il tapirulano con persona 3 non mi costa proprio fatica se indovino il gioco cioè sto giocando a persona 3 che me ne frega che sto anche camminando mi fa bene non è un problema mi scoccia più la doccia dopo la roba di perdita di tempo però tendenzialmente non mi sta dispiacendo neanche quello però poi muoio cioè poi se continui a perdere peso muoio lì devo anche un po' o aumentare il cibo o smettere con le due ore di sport a un certo punto mi ricordo che l'ultima grossa dieta di Magrita che ho fatto per conto mio non riuscivo a smettere di perdere peso ero entrato proprio in una roba che lui continuava a scendere e dico vabbè qua è un problema come cazzo ne è questo allora banniamo Aquana che per i suoi suggerimenti di alimentazione che dice per dimagrire io suggerisco di mangiare una volta al giorno alle 2 di notte con gnocchi di mais e sugo bruciato vabbè magari vorrei assaggiare la cosa che mi viene da dire è vorrei assaggiare cioè giusto per per capire sugo bruciato soprattutto la parte che ma insieme agli gnocchi il mio consiglio fino adesso che è arrivato è dormi con le finestre aperte con la neve cioè io io dormo con le finestre aperte che c'è la neve da anni e sto una favola colpito giuro allora Vito conosco bene queste dinamiche secondo me se tieni l'alimentazione a bada pure se vai a camminare basta senza fare troppe cose ma Vito non vuoi andare a camminare Bob già va benissimo parlo quando diminuisci un po' con lo sport io sono convinto della stessa cosa che dice Bob sì magari mi tengo la piscina magari la piscina si continua ad andare magari non 5 volte no ogni tanto sì 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 secondo me un minimo di movimento ci vuole perché è una roba troppo sedentaria comunque ma la piscina se devo scegliere una è quella che è vero che non gioco nel frattempo ma è quella che mi dà meno fastidio da fare no ma poi anche è un po' più figo il nuoto è proprio una roba che ti muove tutto il corpo completo cioè beh probabilmente sì poi io facendo solo io mi romperei le guglie in un modo bestiale a me piace non stare a mollo no quello mi piace se fosse così invece no devi prepararti fare andare perciò camminare è più bello perdonatemi l'ha detto anche ferruccio l'altro giorno perché tu dici io cammino da casa e vado no no io non mi preparo per andare in piscina ma come no porta l'accappatoio ma che stai scherzando in piscina in palestra già per me no la palestra è peggio perché devi fare una doccia extra cioè una doccia di sporco extra con panni sporchi in piscina no l'unica cosa che faccio io arrivo prendo l'accappatoio e il costume e lo metto sullo stedito senti può essere interessanti in effetti non ce l'avevo pensato e poi io vado vestito come sono mi spoglio metto il costume faccio la piscina oggi per esempio per andare più veloce che volevo tornare in tempo non ho fatto la doccia perché la doccia in piscina mi trovo solo il cloro cioè già lavato non devi fare tu esce dalla piscina dalla piscina mi faccio di solito mi faccio di solito una sciacquata provo a togliere solo il cloro e poi mi rivesto basta togli il costume e metti ai mutande non è che devi fare queste gran cose ora quando fa freddo dovrei asciugarmi meglio i capelli eccetera io faccio male però tendenzialmente a livello di desiderio non è un problema per me come pensai li porto bagnati i capelli generalmente quindi questo non mi preoccupa quando vado a camminare anche a casa comunque c'ho i panni sporchi c'ho il sudore devo mettere la roba a lavare devo spogliarmi fare la doccia per me è molto più pratica la discina forse è vero perché la palestra è panni diversi più doccia dopo per forza per rimetterci hai un cambio di vestiti in più sì sì è vero invece qua non c'hai il cambio di vestiti è solo costume mutande al massimo al massimo però tu puoi mettere da casa il costume direttamente e sei a posto la mattina ti svegli e ti metti il costume magari no magari proprio cioè a casa tipo io non è che mi vesto già per uscire quindi mentre mi vesto per uscire mi metto anche direttamente il costume potrei fare così no però perché dopo ce l'hai bagnato no no una cazzata è ovvio che te lo devi togliere dopo la piscina certo sarebbe questo sarebbe il cambio però non coinvolge necessariamente tutti i vestiti se non la togli dalla borsa potresti pure lasciarle in borsa non è un problema che è bagnato il costume è il problema che se lasci nella borsa la roba bagnata puzza di muffa no 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 ma sì ma soprattutto poi ti devi togliere il costume e mettere un altro paio di mutande o costume comune quindi quel cambio lo devi fare sì però quello che è proprio per me super fratica adesso che tolgono il capannone sulla piscina diventa una piscina aperta te ne vai la prendo diventato pure abbronzato negli ultimi anni invece le sole non mi trovavo al mare io sembravo una roba osceva di un fantasma poi io diverso invece vado al mare vero ma abbronzio una maniera incredibile piscina e abbronzio la pavola con l'acqua il problema sai cosa è una cosa è lo shock dell'entrata nell'acqua che è la roba più fastidiosa questo è pessimo in effetti perché se non c'è sabato mattina c'hanno i bambini dopo e 900 gradi è caldissimo è un brodo ci puoi addormentarti dentro gli altri giorni con il capo non ho capito perché per i bambini la riscaldano perché i bambini i genitori si lamentano se i bambini si lamentano nell'acqua è fredda e quindi la fanno trovare è un brodo non è che i bambini fanno la pipì nella piscina quindi è calda bella calda per quello prima dei bambini io vado prima io vado alle 7 però è quello è proprio che si lamentano anche la domenica mattina perché ci stanno gli anziani che si lamentano di più però è un minuto io non è che sto lì ora metto l'acqua e bagno un po' e mi butto di peso però non è la cosa più piacevole del mondo no no infatti sono d'accordo anche questo hai ragione ma purtroppo mi hai aiutato ricordate la cosa dei panni l'estate è peggio perché l'estate stanno 80 gradi fuori caldissimo e l'acqua è freddina quindi là lo shock è ancora peggio però una volta che sto dentro mi fa molto meno fastidio come movimento della camminata perché non sudo io poi sudo tanto puzzo mentre là sto in acqua mi faccio al mio ritmo ecco eh da quel brodo primordiale di cloro germi sputi e spicciolamenti non fa sembrare troppo bella la roba l'idea di andare in piscina giustamente ehm questa è la parte più bella della live dice Bob real Vito Yuvara live sì ah no ci piace certo vabbè ne parliamo perché comunque a parte che è divertente chiacchierare sempre però Vito sta facendo proprio una roba quindi interessante anche per quello va bene siamo all'ora di andare a camminare persona 3 persona 3 reload Vito lo giocherà final live oggi Vito più tardi alle 20 e 30 più tardi ma noi stasera no non abbiamo niente perché io non ci sono giustamente sì sì certo non mi ricordo infatti ti aiuto io se non te lo ricordi senti devi anche organizzarti per la settimana del 22 aprile eh che è successo non possiamo fare live però possiamo spostarla al martedì ma non per me ma la sera dici sì quella del lunedì sì è un lunedì perché c'è il derby il 22 aprile vabbè questo me lo devi scrivere a parte Vito se no poi c'è Milan Inter ma noi abbiamo invece ricordami pure tu lunedì prossimo Save a Game lunedì prossimo Save a Game sarebbe il primo aprile sì e poi non c'è già altre robe 8, 15, 22 è da fare ok va bene Save a Game bella ghiacchia considera il 23 se vuoi proprio farla se non vuoi farla saltare però durante il derby Milan Inter che magari uno vince a scodetta secondo me non ha senso no 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 per rispetto di questa splendida community va bene assolutamente certo certo ci sta ci sta ci sta sì sì magari se ti va la spostiamo al martedì se no facciamo un altro sì io in questo momento il martedì ce l'ho libero sì ah vabbè buono a sapersi dai e va bene ragazzi grazie per la compagnia Vito grazie per la chiacchiera fantastica ringraziamo ancora Falco Nero per essere passato è stato molto ottimo poter parlare direttamente con lui della roba di cui già stavamo parlando bellissima chiacchiera pure dopo sui giochi giocati post fantastico uno dei migliori di Vito Jovaro Show di sempre l'abbiamo detto e lo ribadiamo e noi ci vediamo domani dopo pranzo per il buongiorno laggato a questo punto e con Vito ci vediamo niente direttamente ci vediamo lunedì prossimo la sera con Seva Gamer ok perfetto invece tu la prossima live tua Vito stasera alle 20 e 30 20 e 30 stasera ok a posto avete tutti i dati Caraibi alla prossima Caraibi 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 Vito Caraibi Caraibi allora vediamo un po' se possiamo fare un ride da qualche parte chi c'è chi c'è ah guarda Irma sta giocando a Silent Hill 2 andiamo a sbirciare allora Ride Only in Roma e Silent Hill 2 in attesa di capire come sarà il remake l'originale vediamo va bene ok Caraibi ragazzi grazie grazie per la chiacchierata a tutti alla prossima Caraibi